Buonasera ragazzi, buonasera Buonasera, buonasera, bentornati, bentornati Questa sera di martedì C'eravamo abituati ai martedì intervistosi Cioè martedì in cui facevamo le interviste a attori, doppiatori e così via Quel format si è preso una pausa In attesa di potervi portare dei nomi sempre più altisonanti Tra l'altro stiamo lavorando anche per portarvi i doppiatori italiani Già ne abbiamo portato uno in passato, Pino Insegno Stiamo lavorando anche per portarvi anche altri doppiatori Questa sera però il nostro martedì non sarà intervistoso come quelli passati Ma ci tocca ragazzi Ci tocca Torneremo a parlare Della serie Lo so che vi fa piacere questa cosa Già vi vedo che entusiasti Eh la serie Allora Io ve l'avevo detto Come sempre Cioè non è che Ve l'avevo detto Ragazzi dopo la fine della serie ci prendiamo una pausa E sono passati tre mesi Metà ottobre è finita Metà novembre Metà dicembre Metà gennaio Quasi tre mesi già esatti Quasi tre mesi esatti Oggi è il 17 gennaio Quasi tre mesi esatti Che è finita la serie La mia intenzione sarà questa Farvi Darvi Degli aggiornamenti sulla serie Ogni tre mesi Quindi Il primo E sono passati tre mesi E facciamo l'aggiornamento 17 gennaio Il secondo sarà quindi Febbraio, marzo, ad aprile Maggio, giugno, luglio Il terzo E poi è il settembre, ottobre Vedremo È abbastanza in dubbio Che possono proporci la seconda stagione Quest'anno Molto probabile che ce la preporranno L'anno prossimo Ma lo vedremo anche Leggendo qualche articolo Sai di fatto che Ogni tre mesi Fino alla prossima stagione Vi daremo degli aggiornamenti Ok Quindi Che cosa faremo stasera? Insieme ovviamente non sarò da solo Ma insomma Saremo insieme ad altri amici Che già conoscete Che hanno fatto compagnia In altri appuntamenti Anche durante la serie Quindi sono persone esperte Fra virgolette Come noi Sulla serie E che cosa faremo Questa sera? Ho raccolto Le principali notizie In merito alla serie Alcune me le avete inviate voi Altre le ho salvate io Durante il tempo E le andremo Andremo a leggere Prima gli articoli Riguardanti queste notizie Quindi prenderemo comunque Degli articoli Su dei siti web Di cui mi fido Abbastanza In realtà un sito web Che di solito Lo uso per leggere Notizie di cinema in generale Cioè Bad taste Adesso ve lo farò vedere Che è giusto Dare i crediti Al sito Perché io mi informo Quasi sempre da loro Quando mi devo Informare in merito a Serie Film e così via E commenteremo i vari articoli Ovviamente noi E insieme a voi Questo lo faremo Ogni tre mesi Va bene? Ogni tre mesi faremo Questa Questo aggiornamento Questa L'impatriata Seriale Va bene? Chiamiamola così Perché? Perché Esattamente come abbiamo Seguito la prima stagione È ovvio che seguiremo Anche la seconda Così come seguiremo Anche la terza Se si dovesse fare La quarta La quinta Eccetera Credo che questo sia Abbastanza ovvio Ovvio come cosa Questo vi dimostra Anche che Mentre noi Abbiamo un interesse Al di là proprio Del picco Di ascolti Del momento Nel seguire Quella serie Al di là Dell'onda Del momento Che è Tutti seguivano La serie a settembre Ottobre E qui tutti Ne hanno parlato Anche chi Che ne so Chi faceva i gameplay Di minecraft Si è messo a parlare Della serie Non sto scherzando Chi faceva i gameplay Di minecraft Ma porca Noi invece Ci teniamo A seguire L'evoluzione Della serie Dal primo All'ultimo giorno Non solo Quando fa Ascolti Eh amici Colleghi Non solo In quel momento Amici colleghi Che non se la stanno Più cagando Stasera Perché Gli hanno fatto Schifo Per questo Non se la stanno Più cagando E invece Dicevano Che era piaciuto Stiamo Cazzo Comunque ragazzi E invece No Noi La seguiamo Perché Perché Speriamo Che possa Migliorare Quindi ci teniamo A Rimanere Aggiornati E vedere come La situazione Possa andarsi ad evolvere Migliorando O magari Purtroppo Peggiorando Perché Non c'è il limite Al peggio Questo lo sappiamo Bene Comunque Vengo a salutarvi Allora Eccovi qua Oggi ho letto Che è la prima volta Ringeverse Che è Ringeverse Di che state a parlare Ragazzi Ciao Sere Ciao Domenico Ciao Riccardo Buonasera Mario Sarai molto felice Della presenza di Tom Ah Ragazzi Non è Vabbè Sta nel titolo Della live Quindi sì Parleremo anche Di quella notizia Che tra l'altro Vi ho condiviso Anche su Su Instagram Quindi Non è che c'è Non è questa gran notiziona Ciao Gianni Ciao Mario Buonasera Ciao G Ciao a tutti ragazzi Ciao Barto Ciao Fabri Buonasera ragazzi Buonasera Proto Bombadil Esatto Ricominciamo con sto Proto Io la vedo più come una seduta di gruppo Sì Praticamente siamo a quei livelli lì È una seduta di gruppo Che noi facciamo Faremo ogni tre mesi Per aiutarci a superare il trauma Il 14 scorsi del mio compleanno Auguri Manuel Auguri Buon compleanno Auguri Giusto giusto Tre mesi dopo la fine della serie Ciao Matteo Fiori di far parte di questa tua bella community Da quasi un annetto Ti ringrazio E benvenuto Ovviamente anche se È già un annetto Quindi non è poco Aiutiamo anche Gilgalad Ci proveremo ragazzi Ci proveremo Comunque ragazzi Saluto tutti Ovviamente Ciao Giorgia Frank ricorda che la seconda serie Sarà più canonica Come no Domenico Allora Ho evitato di inserire quella notizia Che poi definiamo la notizia Ho evitato di inserirla Proprio per evitare poi Di utilizzare contro gli sceneggiatori Le loro stesse affermazioni Ma io dico L'ho detto cento volte durante la serie E lo ridico anche adesso Gli sceneggiatori farebbero bene A starsene zitti Pensate a lavorare Non fate affermazioni Che poi vi si possono ritorcere contro Perché un'informazione come quella Gli si può ritorcere contro E' come se un allenatore A inizio campionato Dicesse Quest'anno vinceremo il campionato Ma sei un coglione Perché Quanta possibilità Hai di vincere un campionato Anche se sei la migliore squadra Della serie A Non è che siano Non puoi avere Il cento per cento Le possibilità Ed è ovvio che arriverà Lo stronzone Il giornalista stronzone di turno Che Si salverà quella notizia E a fine campionato Quando arriverai Decimo in classifica Ti ritorcerà contro Quella notizia Vedi Quindi questi sceneggiatori Pensassero a fare il loro lavoro Perché devono Fare affermazioni Che non solo Gli si ritorciano contro Ma Vanno a Inasprire Ancora di più Il rapporto con il pubblico Pensate a fare Il vostro lavoro Non mettetevi a fare A fare Dichiarazioni Di dubbio gusto Quelle lasciatele agli attori Gli attori si prendono Un po' più di Estrosità Nelle loro affermazioni Però vabbè Ci sta su attori Ma voi sceneggiatori Pensate a scrivere Ecco Pensate a scrivere Qualcosa di decente Ve ne prego Comunque Buonasera Harry Ciao Io sono Erinvor È bello fare parte Dei Tolkieniani Anonimi Non vedo la serie Da novembre No non è vero L'ho vista ieri sera Ci sono ricascato Soprano te Harry Vada Io l'ho detto Tipo L'avrò detto Mille volte Che avrei voluto Rivedere la serie Su Twitch Ma non ci ho ancora Non ho trovato il coraggio Cioè Non per altro Ma perché Non lo so Mi riporta Alla mente Riporta alla mente Dei Non brutti ricordi Però Non so te Ciao a tutti No ma guarda Io L'ho riniziata Anche in inglese Per avere un po' di cose E non ho continuato Non ce l'ho fatta L'ho ricominciata in italiano Perché Ho dei video in mente Da fare Quindi sto cercando Di analizzare Da altri punti di vista Però mi sono fermato Quindi Quindi è più una ricerca Che stai facendo Sì 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 Assolutamente Per il tuo content Ci sta Ci sta Ci sta Io non ne ho ancora Del coraggio Non so quando Riprenderò a fare Qualche video Sulla serie Probabilmente Quando uscirà La seconda stagione Non riesco a farle Cioè Mi sono tanto Talmente nauseato Quando fu All'epoca Due o tre mesi fa Che adesso Secondo che dovrà passare A meno un altro anno Per farmi Per farmi Interessare nuovamente A lavorarci proprio E farci dei video E così via La live Di aggiornamento La facciamo Perché comunque Appunto Anche per Anche per arrivare Preparati Alla seconda stagione Vogliamo Tenerci aggiornati Sia noi E tenere aggiornati Ovviamente voi E poi Perché è una nostra Sfera di interesse Tutto sommato Alla fine Noi siamo anche Un po' masochisti Sempre che vogliamo Dirla tutta Ma la cosa La cosa ridicola La cosa purtroppo La cosa purtroppo Ridicola È che fu All'epoca Non voglio Riesumare Vecchi cadaveri Ma all'epoca C'è stato Chi ha Criticato I tolkeniani Perché parlavano Della serie Giustamente Tu invece che fai Il gameplay di Minecraft Della serie Ne puoi parlare È normale Che tu parli Di una serie tv Che non c'entra un cazzo Con quella Viva la pluralità Invece I tolken No 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 Invece i tolkeniani Che parlano di tolken Sui rispettivi canali YouTube E non solo Non possono parlare Della serie Non ha senso Penso che siamo Proprio degli stronzi Comunque Vabbè Io vi presento Anche Vi presento Vi ripresento Dato che è stato con noi Già altre volte Il nostro fantasma Del web Buonasera di me Ciao Frank Ciao Erin Bentornato Bentornato Finalmente Io Cerchiamo sempre Di organizzarci E fare qualche live Fare qualcosa insieme Però una volta È impegnato lui Una volta Io non ci riesco Perché sono impegnato Non riusciamo Ma è invece Stasera abbiamo Finalmente abbiamo trovato L'occasione Di farci una Bella chiacchierata Allora Dimed Io ti chiamo Dimed Ragazzi Io lo chiamo Dimed Lo sapete già Se ce l'avete seguito Durante la serie Perché per me Dimed Lo conosco da Ormai già da Un bel po' di tempo Un paio d'anni Due anni e mezzo Almeno due anni e mezzo Ci conosciamo solo Via web Virtualmente Per il momento Però lui È il nostro Fantasma del web Lo trovate infatti Come il fantasma Web anche su YouTube Tra l'altro Andate a dargli Un'occhiata I suoi video I suoi contenuti Ovviamente a quelle di Eri Ma Eri lo conoscete La maggior parte di voi Anche perché È un abitué Qui sul canale Ormai mensilmente Il nostro Dimed Invece si è venuto A fare qualche comparsata Ogni tanto Mi fa piacere Che sia venuto Anche stasera Andate a dare un'occhiata I suoi contenuti Perché sono molto interessanti Lui ha una voce Fantastica Con cui riesce a narrare Ha una voce narrante Che io raramente Ho visto Ho trovato su YouTube E non solo Quindi potrebbe fare il doppiatore Per quanto mi riguarda E quindi Andate a dargli un'occhiata Soprattutto se voi Siete appassionati Di storie creepy Insomma Cose molto 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 carucce E bentornato Dimed Bentornato Grazie Io so che Tu sei particolarmente Interessato all'argomento Sì Oltre ad essere un tolcaniano Questo ormai Lo sappiamo L'abbiamo L'abbiamo imparato Quando ne parlamo Della serie E quindi Stasera Ci andremo a commentare Il Le notizie Uscite Durante Questi tre mesi Che tre mesi Potrebbero sembrare Pochi In realtà In funzione Appunto Del Di possibili novità Ma in realtà Sono successi Un po' di cosette L'ultima delle quali Riguarda un certo Tom Bombadil Ora Io lo so Che voi Aspettate Quella notizia lì E quella notizia lì Io ve l'ho messa alla fine Ovviamente Perché sono un bastardo Quindi alla fine Dovete aspettare Fino alla fine Due ore Tre Quattro ore Di là No La live durerà un'ora Un'ora circa Dai un'ora e mezza Che per i miei stand Lo dici sempre Poi facciamo almeno due ore In realtà Vabbè Però io già sapendo Io Tolgo qualche Mezz'oretta Sapendo che comunque Arriveremo a due ore Comunque ragazzi Dovete aspettare Però nel frattempo Ci andiamo a leggere Un altro Altri articoli Che ne sono usciti Ne ho Selezionati Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E nove A decina Decina di articoli Vi dico anche Che se durante Questa live Andremo Andando a leggere I vari articoli Voi avete Delle integrazioni O magari Delle Degli aggiornamenti Sui aggiornamenti Che vi andremo a fare Inviatemeli Su Twitch No su Twitch Scusatemi Su Discord Se è possibile Non so Metteteli nella sezione Il gruppo Dedicato alla La serie Su Discord O magari Mettetela proprio qui Su in chat Insomma Cercate di farmele Pervenire Se ci sono degli aggiornamenti Di cui io purtroppo Non sono Non sono Al corrente Quindi delle Novità Rispetto alle novità Che io già Vi andremo a leggere Informatevi anche In maniera estemporanea Quindi stesso Guardando la live Io cercherò di Di vedere Se mi arrivano File Articoli Insomma Qui su Discord E così via Così da Rendere la cosa Quanto più Immediata E recente possibile A me Quello E quello A cui tengo Cioè Darvi degli aggiornamenti Tipo Il telegiornale Della serie Va bene Questo è il telegiornale Della serie E non è detto Che il telegiornale Deba dare Delle notizie buone Anzi Il telegiornale Dà notizie buone Questo lo sappiamo Molto bene Questo è il telegiornale Del potere Esatto Il telegiornale Degli anelli Del potere Vai Poteri forti Guarda Benvenuto a sta Ma avete fatto Finire sta cosa Lo chiameremo Dalla prossima volta Non da stasera TG Rings of power TG power Rings E roba del genere Quindi lo Etichetteremo proprio Come il telegiornale Allora Come sappiamo La serie E' finita Il 14 La prima stagione 14 ottobre 2022 Dopo tre mesi Che cosa sappiamo Una cosa la sappiamo Che la seconda stagione Si farà Si farà Perché la stanno Fra l'altro Anche già girando In realtà La devono già Iniziata a girare Quando la serie Era La prima stagione Era ancora in atto E andiamoci a leggere Rapidamente Le informazioni Che abbiamo In merito A quando Potrebbe uscire La seconda stagione Delle informazioni Che in realtà Risalgono A quando La prima stagione E' finita Quindi non abbiamo Queste notizie fresche In merito Alla A quando Potrebbe uscire Non perché Non è stato fatto Ancora alcun Annuncio specifico Ok Però io comunque Vi condivido Il primo articolo Che ci andremo A leggere Il primo articolo E' il seguente Allora come vi dicevo Ragazzi Per dare i crediti Dare a Cesare Quel che è di Cesare Useremo Il sito Bad Taste Che allora Io apprezzo Un po' meno Il loro canale YouTube Dove secondo me Portano dei contenuti Dei recensioni Però molto spesso Abbastanza pilotate Però vabbè Facciamo verde Il loro sito web Invece Lo apprezzo molto Perché Sono molto aggiornati E danno notizie Abbastanza precise Sintetiche Però Sono degli articoli Come se fosse un'ansa Del cinema Dedicato al cinema E alle serie Quindi se vi interessa Rimanere aggiornati Su questi argomenti Ma immagino che Maggior parte di voi Conosciate già Questo sito web Io vi lo consiglio Comunque Bad Taste Punto it Allora I anelli del potere 2 Quando esce La seconda stagione L'articolo è Del 17 ottobre 2022 Quindi la fine Della prima stagione Ragazzi Però È l'unico articolo Sull'argomento Che io sono riuscito A trovare Quindi questo vuol dire Che non abbiamo Alte notizie A riguardo Molto velocemente Ve lo leggo La prima stagione I anelli del potere Si è appena conclusa L'ottavo e ultimo episodio Infatti Dispone bla 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 Non solo Alcune livellazioni Contrano l'episodio Rappresentano delle grandi Anticipazioni E bla 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 Queste cose le sappiamo Quante stagioni avrà I anelli del potere Lo sappiamo già però Leggiamocelo velocemente Il piano di Amazon Con la serie È a lungo termine È stato infatti deciso Sin da subito Che verranno prodotte 5 stagioni Questo lo sapevamo Ancora prima Della prima stagione Permettendo Permettendo agli sharon Di sviluppare Un ampio arco narrativo Che presumibilmente Condurrà all'ultima alleanza Tra uomini ed elfi Contro sauro Questa è la stessa Ipotesi Che abbiamo fatto noi Durante la prima stagione È molto probabile Che la loro intenzione Si arrivare alla battaglia Dell'ultima alleanza Quindi alla fine Della seconda era E quella che per intenderci Come giustamente dice l'articolo Si ricollega poi Al prologo del signore Anelli Tramite il taglio Dell'anello Da parte di Silvio Le riprese della stagione Della seconda stagione Sono già in corso Questo è un articolo Il 17 ottobre Quindi come vi dicevo Come vi ho appena detto Le riprese Della seconda stagione Erano già iniziate Durante la La prima stagione Che sarà composta Sempre da otto episodi Sono iniziate Da due settimane Quindi il 17 ottobre Iniziate già da due settimane A inizio ottobre E si sono spostati Nel Regno Unito Ora Era apparsa una notizia Molto flash Negli ultimi Negli ultimi settimane Secondo il quale Sarebbero Dovuti tornare Dovevano tornare In Nuova Zelanda In realtà no Sono rimasti In Gran Bretagna A Londra Vicino Londra In Regno Unito E dimostrato anche Da alcune foto Di backstage Per la seconda stagione Che vi mostrerò dopo E che sono usciti Appunto come novità Amazon ha poi deciso Di spostare le riprese Nella stagione successiva In Regno Unito Anche se qualche giorno fa È stato rivelato Che parte della produzione Desidererà anche in Nuova Zelanda In realtà no A quanto pare Infatti l'ha appena detto L'articolo In realtà no Da quello che si è capito Le riprese Si stanno svolgendo Per il momento Totalmente Nel Regno Unito Ora vai a capire Se ci saranno magari Delle specifiche riprese Che faranno In Nuova Zelanda Mi viene però difficile Da pensare Che sposteranno Baracche e baracchine E baracconi Da Londra Alla Nuova Zelanda Magari per fare Semplicemente due riprese O qualche scena La vedo un po' difficile E macchinosa Come organizzazione Si è iniziato In Gran Bretagna Perché dovrebbero spostarsi All'improvviso In Nuova Zelanda Quindi non lo so Come giusteranno Effettivamente questa cosa Staremo a vedere anche questo Cosa sappiamo La seconda stagione Per il momento poco o nulla Se non che verrà introdotto Un nuovo personaggio Kirdan Questa cosa è stata Abbastanza confermata Fino ad ora Tanto è vero Che abbiamo persino Le I possibili attori Che potrebbero interpretare Kirdan E non solo Ma questo lo vedremo dopo Quando uscirà La seconda stagione Chi si aspetta Di vedere i nuovi episodi Della Ione del Potere Esattamente un anno dopo L'inizio della serie Rimarrà deluso Come vi dicevo prima E' improbabile Se non impossibile Che la seconda stagione Debuti a settembre 2023 Chi desidera Che gli episodi Arrivino il primo possibile Ovviamente Gianni Fersalk Capo di Amazon Studios Come ha affermato La stessa qualche tempo fa Vogliamo che passi Meno tempo possibile Tra una stagione e l'altra Ma vogliamo anche Che l'asticella Si mantenga Molto alta Pazzo Chissà quale Quindi ci vorrà Quello che ci vorrà Ma va Abbiamo una certa urgenza Circa il muoverci rapidamente Che è il motivo Per cui dobbiamo Abbiamo messo Gli sceneggiatori A scrivere Durante la pausa Del lockdown Ci stiamo muovendo Rapidamente Vabbè Finisco l'articolo Poi magari commentiamo Questa Quello che ha detto La direttrice Di Amazon Studios Negli stessi giorni Però i scenari Si sono affrettati a chiedere Che superare la difficoltà Della pandemia Sarà più veloce A realizzare i nuovi episodi Ma che tra preproduzione Riprese e postproduzione Potrebbero volerci Un paio E' improbabile Che le riprese Durino più di 8-9 mesi E ancora adesso Stanno durando Le stanno facendo Ancora adesso Le riprese Non sono ancora finite Quindi siamo già A tre mesi Beh c'è ancora Tempo per arrivare Ai 8-9 mesi La postproduzione Prenderà molto tempo E lo sappiamo Perché ci sono tutti Effetti visivi Eccetera eccetera Mentre la preproduzione Era in corso Già nella prima Nella primavera Di quest'anno Facendo i dovuti calcoli Insomma è probabile Che la seconda stagione Esca nella primavera Del 2024 E che in generale Amazon riesca A impostare Una tempistica Di un anno e mezzo Tra l'uscita Di una stagione E l'altra Nel frattempo La speranza E che Prime Video Riempia comunque I contenuti di fan Affamati Di anticipazioni Approfondimenti Vabbè Blablabla Allora Piccola riflessione Su quello che ha detto La direttrice Andosta La direttrice Di Amazon Studios Che poi Non è che Che poteva dire Di diverso È ovvio che lei Abbia affermato Vogliamo mantenere La sticella alta Ora La sticella alta Da che punto di vista Dal punto di vista Generale Estetico Narrativo Da che punto Che vuol dire Vogliamo mantenere La sticella alta Perché se parliamo Di sceneggiatura Di scrittura Di narrazione E così via La sticella Non è alta La sticella Ce l'hanno infilata Dove non batte il sole Se poi parliamo Di altri aspetti Allora posso anche In alcuni casi La spesa La spesa La spesa Dovano mantenerla alta Però Diciamo che Se La direttrice Di Amazon Studios Fa un'affermazione Del genere C'è da sperare Che magari Si possono impegnare Un po' di più Anche se Questa fretta Io non l'apprezzo Perché La fretta È La madre Delle cose Fatte male Fare le cose In fretta Non porta Mai a niente Di buono O comunque Non porta Quasi mai A niente di buono Il rispetto A quello Che tu potresti fare Prendendo le cose Con più calma Facendo le cose Con più calma E soprattutto Io mi immagino Questo Poi do la parola A voi Se Dovessero Quando finiranno Le riprese Ok Quindi 8-9 mesi Ipotizziamo Che senza problematiche Finiranno Che ne so Giugno Maggio Giugno Luglio Ok Quindi loro Se vogliono farla uscire Come dice l'articolo Nella primavera del 2024 Quindi marzo Aprile 2024 Avranno 5-6 mesi Per fare la post-produzione E sappiamo Quanto per questa serie È importante La post-produzione Loro hanno avuto Tutto il tempo Che hanno voluto Per la prima stagione E infatti Diciamo Gli effetti speciali Per quanto In certi momenti Artificiosi È in dubbio Che siano Tra le cose Più accattivanti Di questa serie Per quanto Ripeto ancora In certi momenti Abbiano comunque Anche quelli Lasciato a desiderare È memorabile Il famoso toporanio Ormai Però Dico io Se voi volete Fare le cose di fretta E quindi accelerare Quanto più possibile Il ritmo Non tanto delle riprese Ma della post-produzione E quindi mettere fretta A tutti coloro Che lavoreranno A quel settore Rischiamo di ritrovarci Una serie Che anche esteticamente Potrebbe avere Qualche problema in più E potrebbe non avere La qualità Che magari Ha avuto La prima stagione Che come abbiamo detto Tante volte Una delle poche qualità Della prima stagione Era la sua estetica Non sempre Ma in generale Era quella Quindi a me Questa fretta Che sembra comunicare La Jennifer Salk A me Da una parte Mi fa piacere Perché sono curioso Di vedere Che cosa faranno Nella seconda stagione Però Se mi devo ritrovare Nella seconda stagione Che Magari la sceneggiatura Sarà uguale O Simile Alla prima E anche esteticamente Per fare le cose in fretta Ci ritroviamo Un qualcosa di Che ha una qualità Minore Rispetto Inferiore Rispetto alla prima stagione Andiamo di male in peggio Come posso dire Non c'è il limite Al peggio E non si finisce mai Di raschiare Il fondo del barile Quindi io spero Che questa affermazione Della Salk Si chiama Salk Sia stata fatta Solamente per Magari trasmettere Un po' di hype Quindi per Mantenere I spettatori Sul pezzo Ok Fargli capire Che noi Guardate Non è che arriviamo Tra dieci anni Ma arriveremo Fra un anno e mezzo Io spero Che sia questa Magari fra due Anni O magari avrà Provato a ipotizzare Qualcosa Che però non si Realizzerà Non lo so E poi La notizia Che vi voglio far Commentare Anche È questa Ci credete Anche voi In chat Ragazzi Ecco proviamo Iniziamo a fare Un po' di Toto Uscita Secondo voi È fattibile Che la seconda Stagione Arrivi Nella primavera Del 2024 Quindi primavera Aprile Mettiamo aprile Ok Maggio Giugno Sei mesi prima Quello che è il Il programma Più Diciamo Quello che era La programmazione Più Più Veritiera Più Realistica Cioè del Settembre 2024 E soprattutto Perché poi Anticipare Di sei mesi Se dovessero Farla uscire Nella primavera Del 2024 E dunque a settembre 2024 C'è davvero bisogno Di anticiparla Di sei mesi Magari Appunto Come dicevo prima Andare a Velocizzare Fin troppo Il lavoro Di post-produzione E magari anche Le riprese Eri Cosa ne pensi Tu al riguardo Ma allora Scusa Eri Allora nel frattempo Ragazzi io sto salvando Sia le donazioni Sia i commenti Quindi una volta Fatti la solita sessione Di argomentazioni Vi verrò a leggere Non vi preoccupate Che vi sto leggendo E vi sto guardando Non vi preoccupate Vai Eri Scusami Allora dipende Dalla programmazione Di Amazon Di altri progetti Dipende Dalla programmazione Prevista Di Netflix Di HBO Di altri progetti Dipende Da The House of the Dragon Seconda stagione Cioè il fatto Di accelerare O velocizzare Per loro Non è un grande problema Anche perché Se hanno il materiale Ce l'hanno Quindi Se fanno una proiezione È perché hanno Dei dati alla mano Quello che mi perplime Da un certo punto di vista È che Loro hanno iniziato A registrare A fare Insomma La produzione Abbiamo detto Ad ottobre Vuol dire che Tutti gli script La sceneggiatura Era già stata scritta Loro In questi mesi Hanno comunicato Che la seconda stagione Sarà più canonica Più questo Più quello Più quell'altro Poi magari dopo Entriremo più nei dettagli Però Quando hanno iniziato Hanno iniziato la produzione Lo hanno fatto Che la prima stagione Era in corso E gli script La sceneggiatura Era già stata scritta Quindi aggiustare Una cosa Che stai già mettendo In produzione Sui feedback Della prima stagione Quindi modificare La produzione Che hai in atto Porterà Ad un pastrocchio Incredibile Perché avrà La struttura Uguale alla prima stagione Con degli easter eggs Delle cose Che loro inseriranno Forzeranno Modificheranno In questo momento In questi sette Otti mesi di produzione Per raccontentare Quelli che sono stati I critici Negativi E sono tantissimi E che potrebbe portare Ad una doppia Un doppio pastrocchio Sempre perché Questo è un progetto Che non ha Alcun valore artistico Ma solo un valore Commerciale E Mi sembra strano Che alcuni Non lo vogliano vedere Ma loro Hanno preso I dati Gli share Gli ascolti Tutti i dati organici Che potevano prendere E su quelli Hanno costruito Una storia E per me È talmente evidente A questo punto Dopo aver visto Tutta la prima stagione Quindi queste sono Considerazioni A posteriori Ovviamente A priori Avevo altri Pensieri Posso dire che Continuano Nello stesso errore Cioè Allora Se tu hai fatto una cosa E sei convinto Di quello che hai fatto Nella prima stagione Vai avanti così Non andare a dire Ah ma stavolta Correggeremo il tiro Perché questo Ti porterà a modificare Una cosa Che tu avevi pensato In maniera diversa Forzandola ancora di più Cioè una storia Che già forza il canone Andranno a forzare Ancora di più Primavera 2024 Potrebbe uscire La seconda stagione Che si prendono Un pochino di tempo In più eventualmente Ma Sempre Dipende Dalla programmazione Che hanno La quarta stagione Credo Di The Boys O la terza Comunque La nuova stagione Di The Boys La devono far uscire Deve avere un certo hype Quello che succede Con Squid Game Che deve arrivare A certo punto Cioè ci sono tanti Di quei progetti In giro per le piattaforme Di streaming Che loro devono Inserirla Nel momento giusto Cioè non è Farla prima Per mantenere l'hype Farla nel momento In cui loro credono Che potrebbe essere L'unico prodotto Mainstream Che possa tirare Le persone nuovamente Alla subscription Di Amazon Prime E quindi poter Continuare Con il loro progetto Quindi è un problema Fino a un certo punto Faccio una previsione Per la seconda stagione Quando uscirà Secondo te Previsione secca Lo chiederò pure A D-mail Ma metti gli tre mesi Dalla primavera Del 2024 Quindi Però estate Non è il massimo No Estate non penso Ma io credo Tra settembre Settembre e ottobre Del 2024 Ok Non ci arrivi E anche No è anche il mio pensiero Settembre e ottobre 2024 È esattamente il mio pensiero Penso che ricalcheranno La strada Della prima stagione Pettendola a settembre Dimmi Tu cosa ne pensi Su tutto sto Pastrocchio qua Allora Io sono convinto Che loro Abbino un riscritto La seconda stagione Quindi Se avevano già Del materiale girato Con dei dialoghi L'hanno buttato Nel cesso O Useranno i dialoghi Rimestandoli In qualche maniera Per cambiarli E far qualcosa Perché hanno fatto Un disastro Con la prima stagione Secondo me Sono corsi ai ripari Si addirittura Ha parlato di nuovi Sceneggiatori Affiancati ai due Showrunner Iniziali Quindi Secondo me Hanno riscritto Parecchia roba E quindi Gli ci vorrà più tempo Perché quello Che avevano già fatto Sempre Che fossero arrivati Particolarmente avanti Hanno dovuto Sistemarlo E cambiarlo Cioè riscrivere Una sceneggiatura È comunque una cosa Che prende del tempo Non lo fa in mezz'ora O meglio Non dovresti Poi Chissà Non lo sappiamo Quanto ci hanno messo Per cui Andrà Andrà di lungo Poi io L'asticella alta Non l'ho vista Perché sinceramente Io non sono rimasto Impressionato Dagli effetti visivi Di questa serie Non hanno Niente Di particolarmente Incredibile Tantomeno innovativo Io spero Che cambino i costumisti Perché una delle parti Peggiori Degli anelli del potere Sono i costumi I costumi sono terrificanti Sono brutti Sono fatti male Senza ispirazione Ma sembrano mai presi Al mercatino dell'usato Quello è il problema Alcuni Sì Ma la maggior parte Dei cosplayer Si sarebbero Avergognate Di non essere Una roba del genere Come re elfico Come armatura elf Come armature Le armature Per dio No no Io spero Che li cambino Perché Quindi Io credo Che ci metteranno Un po' A farla Però Però Loro Non vogliono Che la gente Perda Perda hype Quindi Terranno La gente Incollata Con notizie Notizie contrastanti Notizie divisive In modo che la gente Ne parli Odiandola Non importa L'importante Che ne parlino E continueranno A farla Questa cosa qua Perché è l'unico modo Per tenere L'interesse acceso E cercheranno Comunque di farla uscire Prima possibile Per Però Ha ragione Erivor nel dire Che Stavolta Secondo me La contemporaneità Con house of the dragon Cercheranno di evitarla Perché ha comportato Un inevitabile paragone Che purtroppo Hanno perso miseramente Alla grande Purtroppo Per loro Non se l'aspettava Nessuno se l'aspettava Eppure l'hanno perso Io Infatti rispondo anche Ne prendo la palla Al balzo Rispondo anche a domenico Ho visto house of dragon E non c'è paragone Ne devono recuperare Di terreno Per competere Allora io Quando Se vi ricordate Abbiamo parlato più volte Con la madre La madre dei draghi Ci ha fatto compagnia Ogni venerdì Praticamente Per parlare della serie Lei mi aveva più volte Detto Frank guarda che house of dragon È veramente una bella serie Io dicevo Vabbè Magari lei comunque È un po' di partner Che è interessante All'argomento In realtà no Lei è molto più critica Anzi anche più critica Di me la madre In realtà Però Non mi capacitavo Dicevo Come può essere così Migliore della Di questa Ma è che ci vuole tanto Però dico House of dragon È una serie spin off Che E invece no Porca di quella miseria Ragazzi Io me la so vista In due giorni Mi sono azzeccato Non mi sono riuscito A staccare Me la sono bevuta Quella serie Io l'ho trovata Fantastica Quella serie Sotto ogni Punto di vista Ma stiamo scherzando Quando Vogliamo parlare Dei costumi Delle armature In house of the dragon Un dettaglio Un altro pianeta Sono delle scene Che valgono Una Le scene dove Partorisce Uno dei personaggi Quale scene dove Lei partorisce Non mi ricordo Quale episodio è Solo quella scena Quella sequenza Vale tutta la serie Dei rings of power Ma stiamo scherzando Sotto ogni punto di vista È migliore Recitazione Sceneggiatura Estetica Non c'è Non ci sono tutti questi Ghirigori Che abbiamo visto In questa serie Che volevano far vedere Guardate gli effetti Super speciali No Lì è tutto molto Sobrio Nonostante ci siano Degli effetti speciali Però è gestito benissimo È tutto molto elegante È efficace Soprattutto Non è inutile È fine a se stesso Come molte cose Che sono presenti In questa serie Avete capito Cioè Non c'è proprio paragone In alcun modo È assurdo Io ci sono rimasto Quando ho visto Ho detto Ma com'è possibile Com'è possibile Che ci sia una tale differenza E sono stati spesi Non so quando Ma io Da quello che ho capito Almeno Meno della metà Dei soldi Quanto è stato speso Però Non lo so Quanto era Il budget Se qualcuno lo sa Fatecelo sapere Se qualcuno lo sa Non i miliardi di Amazon Ecco Questo è poco Ma sicuro Ne dubito Se lo scherziamo proprio Comunque Allora Ringrazio John Kramer Una buona location Per generare una serie fantasy La circunvesuviana Allora Chi non è di Napoli E chi non è campano Non conosce La circunvesuviana Però Quella è un horror fantasy John Kramer I campani In ascolto Sanno molto bene Cos'è Questo Questa fatidica Circonvesuviana E io vi auguro Di non scoprire mai Nella vostra vita Cos'è Perché io ci ho passato Dieci anni Della mia vita E ancora mi devo Riprendere dal trauma È semplicemente Un treno fantasma Perché non passa mai Che dovrebbe passare Però che non passa mai Quindi l'ho denominato Un treno fantasma Vabbè Comunque Grazie John Alessandro Grazie anche a te Per il supporto La serie è andata Per me Per risollevare Sta roba Serve un miracolo Ah è andata Nel senso È andata Ciao Ok Avevo capito Per risolvere Sta roba Serve un miracolo E con l'ideologia Walk che preme La vedo molto male Ale I sceneggiatori Io ripeto Per Per L'ho fatto Proprio per loro Non l'ho inserita La notizia dove I sceneggiatori Dicevano Guardate che La seconda stagione Sarà più canonica Anzi sapete che vi dico Quasi quasi Adesso ve la vado Mentre faccio parlare Ai nostri amici Ve la vado a pescare Ce la leggiamo pure quella Baffanculo Gli sceneggiatori Ci leggiamo anche le notizie dove L'hanno detto che la serie sarà più canonica Dopo ce la leggiamo E hanno detto che la serie sarà più canonica Ora Che cosa avranno voluto fare? Avranno voluto dare il contentino Alla massa di critiche che hanno ricevuto Avranno voluto Non so Porsi un attimo Mettersi sulle difensive A priori Facendo capire Guardate che noi stiamo lavorando Per renderla più canonica Che poi Dicendo Vogliamo fare una seconda stagione Più canonica Tu ci stai automaticamente dicendo Che la prima stagione Non era canonica Ma questo lo sappiamo ovviamente Però loro per tanto tempo Ci avevano detto No ma guardate che noi Saranno la rappresentazione Della seconda era Lo so che Ci sono persone Che per tutto il periodo Della serie Hanno detto No ma non hanno mai detto Di voler riproporre E invece sì ragazzi Quella era la loro intenzione Poi Si è scoperto che In realtà Non era così E allora hanno iniziato A tirar fuori Tutte le giustificazioni Del caso E non hanno i diritti E non hanno questo E non hanno quello E tolchi ha detto no E quello ha detto Però all'inizio Non era così Comunque Scusa Frank Ma ieri è rimasto Forse sono rimasti indietro Io sono lento Ma ieri è rimasto Il fatto che Silmarillion Non era canonico Quindi la serie è canonica Rispetto a cosa Per Dio Non 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 riprendiamo Non riapriamo Vecchi Vecchi malanni Vecchi traumi Vecchi traumi Vecchi dissapori Perché Sinceramente Non Come dire Ho smesso di interagire Con i pagliacci Quindi Non gira a me Non gira a me Interagire con i pagliacci Lasciamo stare Va bene Comunque ringrazio anche Alessandro Per il tuo supporto Leggiamo altri commenti Per Amazon sono importanti Solo le visualizzazioni Poi dei torcchianiani Non ne vogliono sapere Infatti Per loro siamo fans tossici Però noi Pettiamoci d'accordo Chi è interessato Le visualizzazioni Noi torcchianiani Youtuber Amazon Allora Amazon è interessato A fare soldi Ma Parliamoci molto chiaramente Ovvio Amazon è un'azienda Non è il lente di beneficenza Per i torcchianiani Questo lo sappiamo Ma lo sapevamo Fin dall'inizio Però Non spacciate La merda per cioccolato Perché se tu mi dici Prima della serie Questa sarà una serie rivoluzionaria Sarà questo Faremo questo Faremo quello E poi si arriverà da quella che è Allora lì Amazon mi cade Se avessero detto L'abbiamo detto tante volte Tanta serie Se avessero detto Noi faremo una serie fanservice Io li avrei elogiati Perché è una serie fanservice Di questo livello È una serie Che ha raggiunto Un livello Quanto meno Degno Di stare su Amazon Almeno quello Su Prime Video Se avessero detto Noi faremo una serie fanservice Allora io gli avrei detto Ok va bene Non me la sarei presa Per nulla al mondo Per nulla di quello che ho visto Però Quello che li ha fregati Sono state le premesse E quello è il problema Loro hanno messo delle premesse Che hanno deluso Sono state Si sono rivelati deludenti È lì che è cascato l'asino Sarà un disastro Il livello di Rise of Skywalker Ecco Ci sono i crossover qui Vabbè Mario Sei molto positivo Oddio Lui è molto positivo Mario Me lo ricordo Mario è sempre stato positivo Mario Siamo anime affine Al riguardo Mario Te lo assicuro Luca dice Devono accelerare Perché ormai la serie È già nel dimenticatoio Luca La serie Era già nel dimenticatoio Dopo Io ho visto un calo Già dopo una settimana Della fine della serie Io ho già visto un calo Ma allora Parliamoci chiaramente Tutte le serie Hanno questo destino La casa di carta La gente Se la caga Durante Quando esce la stagione Poi tra una stagione E l'altra Ovviamente Non è che Le persone non rimangono Sul pezzo Perché la serie del momento Se la guardano tutti Poi passato il momento Non è che non se la caga Più nessuno Ma ovviamente Bisogna aspettare poi La stagione successiva Per far sì che quella serie Ritorni in AI Però io ho visto un calo Abbastanza rapido Dopo la fine della serie Anche nelle classifiche Che vengono rilasciate Non da Amazon Ma rilasciate da enti indipendenti Ad Amazon Io ho visto un calo Di interesse Molto Molto rapido E Non mi ricordo Ah Ai Golden Globe Questa serie Non è stata Minimamente Cagata E questa notizia Pure la andremo a leggere Ai Golden Globe Chi segue Il Il mondo cinematografico E non solo Sa bene Conosce l'importanza Dei Golden Globe Che sono Sono l'anticamera Degli Oscar Ok Sono stati Si sono svolti Qualche settimana fa Io tra l'altro L'ho seguito In live Su uno dei canali Delicati al cinema Su Youtube E Non se la sono proprio Cagata Questa serie E addirittura È stata nominata Ai Golden Globe È stata nominata Wednesday Mercoledì È stata nominata Niente da dire È caruccia come serie Però Le aspettative Erano ben diverse Da Wednesday A Rings of Power Rings of Power Non se la sono proprio Cagata Ora I tizi Del Golden Globe Sono cattivi Ce l'hanno con Amazon Sono dei hater Sono tolkeniani No Semplicemente Hanno capito Che questa serie Non è che Non è che era Chissà che cosa Perché se fosse stata Quella serie Gran rivoluzionaria L'avrebbero nominata In qualche categoria Sta Rings of Power Invece non se la sono proprio Cagata Neanche dal punto di vista Tecnico Niente No Nemmeno Non è stata nominata Nemmeno in una categoria Ragazzi E ripeto È stata nominata Persino Wednesday È una serie carina Lo sappiamo Lo so L'ho vista Quindi l'ho vista tutto Oppure Non ho fatto pure Una recensione Però Le aspettative Tra Wednesday E Rings of Power Erano decisamente diverse Eh Invece House of the Dragon Si è portato a casa Il Golden Globe Ti capito Proprio per quello Tu pensa Perché Amazon Ha voluto Non so se lo fa veramente O se poi a livello Non so Esecutivo Licenzierà questi showrunner Perché Una serie Piccolina Minimina Come Quella di Mercoledì Ok Che è un brand Che non si cagava nessuno Cioè forse noi Che abbiamo più di 30 anni Ci ricordiamo Della famiglia Adams Ma I giovani Non gliene fregava niente È arrivata questa serie È un girl power Incredibile Ma è assolutamente Propedeutico Rispetto al personaggio Ma Il Paragonico Gli showrunner Di Mercoledì È schiacciante Vincono 10 a 0 Perché hanno creato Un brand Intorno Ad un personaggio Che era Per noi Cristina Ricci Ed è rimasta lì Perché hanno fatto La danza TikTok E tocca non finire Cioè finita la serie Se ne continua ancora a parlare L'outfit di lei La invitano dappertutto Da Dai vari Jimmy Fallon Kim Tutti i late I late show Negli Stati Uniti Vogliono Jenna Ortega Perché è stata brava Perché hanno messo dietro Tim Burton In qualche modo E quindi hanno creato Un senore Anche Bisogna dire quello Quella serie è spopolata Su TikTok Allora Io non so se Links of power Anche magari Come dire Sottovalutato Quell'aspetto Le L'aspetto virale Perché Wednesday Su TikTok Io che Frequento TikTok Ci vado Almeno Due volte a settimana Ci entro Ci faccio un giro Nel periodo in cui È uscita quella serie C'era un video Di Wednesday Che balla Dappertutto Quel cazzo di ballo Ma porca Di quella Vabbè Lasciamo verde È diventata virale È diventata Marketing pazzesca Pazzesca Rings of power Non se la sono cagata Se ne continuo a parlare Non se ne sono minimamente cagata No ma Ha ragione Chi ha detto prima Pasquale Il fatto che Non ci sono cosplay E merchandise Di rings of power Di mercoledì Dimmi Dimmi il prossimo Halloween Il prossimo carnevale Quante ragazzine Si passano da mercoledì Cioè I cosplayer Non le hanno cagate Non sono uscite Cosplayer famose Che si sono truccate Come Galadriel Perché non si è inculato nessuno Da quel punto di vista Non ha fatto tendenza Neanche un po' Non ci sono proprio riuscite Niente Zero Zero proprio Sotto zero Vabbè ragazzi Allora Vado che siamo quasi a un'ora Siamo ancora al primo articolo Quindi Vado a accelerare un po' Allora Leggo giusto le donazioni Perché voglio anche ringraziare Poi ragazzi Alcuni di voi Mi stanno scrivendo Frank leggi questo commento Ragazzi Dato che State commentando Mi fa piacere Che state interagendo molto Anche fra di voi Purtroppo non riesco A beccare subito Il commento a cui voi Vi riferite Anche perché Se mi dite Leggi il commento di Marco Poi vado a vedere Ci sono tre Marco Che hanno commentato Io non so manco A quale commento Vi riferite Quindi Magari fate una cosa Se volete che io leggo Un commento specifico Andate a ricopiare E incollare quel commento Così mi facilitate il lavoro Altrimenti qui non andiamo più avanti Comunque Leggo giusto Le due donazioni Che sono arrivate Grazie ancora Alessandro Non c'è Un solo momento memorabile In Ring of Power Zero Non c'è un solo momento Che è diventato iconico Non c'è un solo momento Che è diventato virale Negativi sì Questo è un problema Questo è un problema Quindi L'abbiamo visto La differenza con Appunto Wednesday Ma non solo Recentemente Su TikTok È diventato virale Persino il film Quella Quella bambola Che è la nuova bambola Assassinale Meg 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 Persino quella È diventata virale Quella bambola Che fa un ballet Su TikTok E infatti Quel film Ha andato benissimo Al botteghino È un film Con una bambola Assassina Che ammazza la gente Vedete Non è che ci vuole Non sono riusciti a fare nulla Nemmeno a fare quello E i risultati si sono visti Grazie anche a Zazastasia I fan Hanno definito la giuria Troppo Tolkeniana La giuria Dei Golden Globe E c'è Certo Come no Quello giustamente Tutti coloro Che criticano la serie Sono tolkeniani È proprio Di base E invece Non era così Quando poi vedemmo Che in realtà Le critiche provenivano Un po' Dappertutto Però va bene Allora ragazzi Leggo giusto Giusto quello di Riccardo Grazie Riccardo Come sempre Pensate che il ballo Lo ha inventato lei Su due piedi La look Prima che uscisse la serie Era pieno di cosplay Lo so Lo so Questa cosa L'ho letta anche io Tim Burton Ha detto Fai una cosa Facci un ballo Una cosa del genere Lei si è inventato Il balletto Lì su due piedi In maniera Allora È un balletto Questo è quello Che dicono Attenzione Ma allora Io ci credo Perché lei sembra Abbastanza spontanea Quando fa Quando fa quel balletto Il problema È che Ovvio Non è facile Prevedere le dinamiche Di TikTok 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 è un mondo Un universo Parallelo sconosciuto Almeno per quanto mi riguarda Io sto cercando Di impararne i segreti Per arrivare anche su TikTok Vedrete i miei TikTok Che parlo dove parlo Di Tolkien Mi cacherà nessuno Però il tentativo Lo voglio fare Se ci sono arrivati Certi individui Su TikTok Ce la posso fare anche io E comunque Ma lei è stata brava Però È tutto il contesto Di quella serie Che è stato efficace L'ha resa Una delle serie Più viste Degli ultimi anni Questo è poco Ma sicuro Esattamente come House of Dragon Esattamente come altre serie Dahmer Per dirne un'altra E invece Rings of Power Un miliardo Un miliardo Quanto cacchio di soldi erano Non è riuscita Nemmeno a durare Un mese E ovviamente Virale Non c'è andata manco per nulla O meglio Ha fatto vedere visualizzazioni Ma perché Non devono ringraziare Cioè non è merito loro Se hanno fatto Determinate visualizzazioni Ma è perché È basato Sul Signore degli Anelli Quindi tutti Tutti i traguardi Che loro hanno raggiunto Sono me È merito Di Tolkien Di Peter Jackson Del Signore degli Anelli È loro il merito Non Della serie E questo è il punto Quello che molte persone Non riescono a capire Comunque Andiamo avanti Col prossimo articolo Allora facciamo così Dato che È passato già un'oretta Vi leggo i prossimi Uno, due Tre Anzi due articoli Rapidamente Poi mi fate voi un commento Breve E poi Ci fermiamo al terzo articolo Che è un po' più interessante Il primo articolo È il seguente Che in realtà Me ne avete Quando uscì St'articolo Me l'avete linkato Dappertutto Allora Dopo la fine della serie Ci sono stati alcuni Grandi attori Che hanno commentato La serie Come giusto che sia Perché sono anche loro Dei Degli spettatori Tra questi C'è stava Il nostro caro Bernard Hill Voi mi avete detto Riusciti Ma ci stiamo Anche su quello Ci stiamo provando Voi mi avevate chiesto A gran voce Invita Bernard Hill Così gli facciamo Spalare Merda Sulla serie Ma più che quello Mi avrebbe fatto piacere Invitarlo Per fargli un'intervista Indipendentemente dalla serie Però Andiamoci a vedere Che cosa ci ha detto Il nostro Teoden Sulla serie Interprete Teo è una trilogia Blablabla Intervistato da Metro O Metro L'attore ha espresso Totale disinteresse Negli anelli del potere La serie è andata in onda A settembre e ottobre Su Prime Video Non sono No Non sono interessato È un'impresa Con l'unico scopo Di fare soldi E non sono interessato Né a vederla Né a parteciparmi Buona fortuna All'oro E cose del genere Ma non sarà mai Come il film originale Finisco di Chi l'è convinto Che il franchise Avrebbe dovuto Concludersi Con la trilogia De Sirianelli Anche se è meno critico Con l'Hobbit Assolutamente certo Penso che abbiamo Già esagerato Quando hanno fatto l'Hobbit L'Hobbit è un libro Molto breve Lo hanno fatto bene Davvero bene Lo hanno ampliato Ma penso che Un elastico Si possa tirare Solo fino a un certo punto Penso che siano riusciti A farlo con l'Hobbit Perché ci sono Alcune cose Veramente buone Nell'O Alcune No ma E' bellissimo Buona fortuna All'oro E cose del genere Ma non sarò mai Come il film originale Allora A me Tante cariche cose Anche famiglie Morte E' quello E' un ingas A me mi sembra Per quanto io stimi Infinitamente Bernard Hill Mi sembra Come ci siamo Incazzati noi Ok Ma da quello che abbiamo letto La sua affermazione Lui non l'ha vista Non è proprio interessato E' partito col presupposto Che E' a ragione Lo scopo è fare Purtroppo si Bernard Bernardino Ma come ti devo chiamare E' ovvio che lo scopo Era quello Però La mia curiosità Era di vedere Se Oltre a fare soldi Loro avevano anche L'intenzione Di proporci qualcosa Di interessante Non è stato così Non è stato così Almeno per me Però Partire già Col Pregiudizio Vanno solo soldi E non mi interessa Eccetera eccetera Mi sembra un po' eccessiva Effettivamente Si vede anche un po' Di vigore Da parte sua Non è entrato Né a vederla Né a parteciparvi Forse Ne a parteciparvi Ti sei arrabbiato Magari perché Non t'hanno magari Nemmeno invitato A fare una comparsata Ma non hanno invitato Nessuno degli attori Ringsofati Del Signore di Anelli Quindi Vabbè Questa è una mia riflessione E poi parla Dell'Hobbit La sua cosa Con merito all'Hobbit Io Anche qui Ma non sarà mai Come il film originale Anche qui ci vedo Un po' di Non lo so Un po' di Un po' di rosicata Mettiamole in questo modo Non so Da che punto di vista Perché Bernard alla fine Il suo tempo L'ha fatto È un bravissimo attore Tra l'altro ancora recita Se ho capito bene E quindi Perché rosicare Per un progetto del genere Che in realtà Ha riportato anche In Ha fatto ritornare di moda Anche la trilogia Del Signore di Anelli Come se ce ne fosse bisogno In realtà Però diciamo Che se ne è parlato Di più Del Signore di Anelli Rispetto alla media Questo lo sappiamo Quindi perché provare Questo risentimento Nei confronti di questa serie Senza nemmeno Averla vista Non lo sappiamo Magari ci sono dei retroscena Che non conosciamo Che conoscono Conosce solo Bernard O magari altre persone Non lo sappiamo Ripeto Per me Però per me risulta un po' Un po' eccessivo Questo suo Questo suo sfogo Anche perché Come abbiamo appena letto Non è motivato Da una vera e propria visione Della serie Ripeto Se avesse detto Ho visto la serie Ma ho fatto schifo Avrei detto Ok È la sua opinione Io la condivido Però È No A me non l'ha vista La serie Invece A quanto pare Lui la serie Non l'ha vista Stando a quello Che lui ha detto Non vi do subito La parola Perché leggo Anche il prossimo Articolo Nel frattempo Eri è crollato Per problemi di connessione Allora Andiamo col prossimo Articolo Ed è il seguente Dato che So già Che alcuni di voi Potrebbero etichettarmi Come Di parte E dato che Qui Vige Sempre È stata sempre presente Un minimo Almeno di Parcondition E di Imparzialità Sapete Che su questo canale Sono venute persone Che hanno odiato La serie E che l'hanno anche amata Lo sapete molto bene Altrettanto Mi va di fare Anche nel leggere Questi articoli E quindi Ci andiamo a leggere La dichiarazione Di Billy Boyd Il nostro Pipino Billy Boyd ci dice Ho amato la serie Andiamo a leggere il perché Billy Boyd è stato uno Dei protagonisti E beh Sappiamo chi è Billy Boyd L'interprete di Pipino Ha In intervista rilasciata A Sci-Fi Wire Ha spiegato L'ho vista Almeno lui Mi è piaciuto davvero molto Essendo un fan di Tolkien Ho amato Poter vedere tutti questi luoghi Alcuni introdotti Per la prima volta Vedere Casa Doom E Numenor E tutti gli altri luoghi Penso che quello Mi abbia dato La gioia più grande Penso che il mondo In cui siamo Ci siamo Si siano spostati Da un luogo all'altro L'abbia resa davvero guardabile Aia Non si concilia molto bene L'abbia resa guardabile A Ho amato la serie Vabbè Andiamo avanti Pensi Oh Eccoci a Numenor E poi ti ritrovi Nelle caverne di Casa Doom Ho amato Quell'aspetto Ho capito Ma dici qualcosa in più Pipino Solo Casa Doom E Numenor E vedere certe cose Come gli anelli Per la prima volta Tutto quello per me È stato davvero gioioso L'ho amata Parte che tu gli anelli Li hai visti Pipino Li hai visti Gli anelli del potere Nella E forse per i suoi gusti Preferisce quelli Comprati su Wish Evidentemente L'attore sembra quindi Essere rimasto conquistato Allo show prodotto Dall'Amazon Studios In passato Ho già l'ho dato Anche da Andy Serkis Volevo Ho scelto Quella di Pipino Perché mi è sembrato Quella un po' più incoerente Effettivamente Tra le È un po' come quella Di Bernard Anche Bernard È stato abbastanza strano Nella sua affera Affermazione Esattamente come lo è stato Il nostro Il nostro Billy Boyd Che ne aveva perso la portata La fotografia L'interpretazione Per quanto riguarda Andy Serkis Non lo leggeremo L'articolo di Andy Serkis Però Vi faccio solo notare questo Pipino ha detto Pipino Lo chiamo Pipi Billy Boyd Che cosa ha affermato? Ha affermato Mi sono piaciuti i luoghi Casa Dume è numero Eh ok Ho capito C'è qualcosa Non ha citato Nell'altro E non mi sembra Che come L'articolo Un po' L'articolo Questo articolo È un po' È un po' È un po' Esagerato il titolo Ecco il titolista Ha un po' Esagerato in questo caso Perché io non ci ho visto Questo amore sconfinato Da parte di Billy Boyd Ha semplicemente detto L'ha resa guardabile Quei due luoghi Quindi le ambientazioni L'hanno resa guardabile Che è molto diverso Dal dire Ho amato la serie Ha elogiato Casa Dume E Numenor Su Numenor Siamo bene o male Tutti d'accordo Quindi mi sembra Una cosa abbastanza sensata Su Casa Dume In certi aspetti Mi è piaciuta Altre no Almeno per quanto mi riguarda Ha detto Ho amato quell'aspetto E poi la cosa Sugli anelli Che non l'ho capita Perché alla fine Gli anelli C'erano pure Nel signore Di Peter Jackson Quindi alla fine Per semplicemente Per questi due aspetti Tu hai amato la serie Come funziona questa cosa Sembra effettivamente Un po' un titolo clickbait O comunque Sembra effettivamente Una bella esagerazione Nel frattempo Harry è tornato Harry ti senti Se ti sei Ti sei Beh beh comunque A me mi sembra Un po' Un'esagerazione Il titolo Perché alla fine Ha detto semplicemente Che ha apprezzato Alcune cose Mettiamole in questo modo Bernard ci è andato Pesante da un aspetto E in parte Come ho detto prima Non è che abbia apprezzato Molto quello che ha detto Perché non ha senso Fare delle determinate Dichiarazioni Se tu nella serie Non la vedi Qui abbiamo invece Semplicemente Billy Boyd Che dice Mi sono piaciute Un paio di cose Nella serie Però non mi sembra Che lui l'abbia amata In maniera così sconfinata Come vorrebbe farci pensare Anche il titolo Però vabbè Lasciamo perdere Era semplicemente Una mia riflessione Anche su questa Quest'altra affermazione Che pure voi Mi avete inviato Su Instagram Su Discord E così via E l'abbiamo L'ho letta Perché questa Va un po' a contrastare Quella L'affermazione di Bernard Questo è il motivo E dopo queste due Diciamo Dichiarazioni Buttate un po' lì A caso Andiamoci a leggere L'illustratore Tolkeniani Il più conosciuto Il più conosciuto Al mondo Che tra l'altro Quest'anno Ha anche illustrato Il La locandina Del Luca Comics Quindi Ha avuto Un suo ruolo Di primo Primo piano Al Luca Tra l'altro Ha fatto una sua mostra Tra cui fra l'altro Ha partecipato anche Alcuni di voi Lo so Riccardo Qui Riccardo Insomma Avete partecipato In molti A quella mostra Che ha fatto Allora Leggiamo quello Che lui ha detto In merito alla serie Perché è molto interessante Ha parlato Di anelli del potere Quando ero a Luca Che cosa ha detto Anche i film di Peter Jackson Mi sono stati Di ispirazione Negli anni Quando uscirono Mi furono utilissimi Per capire In particolare Come raffigurare Certi costumi Risolsero per esempio Il nostro problema Sul quale mi Ero scervellato Come indossare un mantello Con un sacco in spalla Dove mettere gli spalloni Al momento Ci sono molte controverse Legate a come Anelli del potere Sia in sostanza Una specie di fanficcia L'ha detto Molto chiaramente Ma io non Non capisco perché Quella dovrebbe essere Una definizione negativa Non l'ho mai detto Che sia una definizione Comunque leggiamo tutto Per me è sempre positivo Quando si amplia Un contenuto In maniera originale Utilizzando intelligenza Misura e attenzione E credo che loro L'abbiano fatto molto bene In particolare Nella serie Si approfondisce molto Il dialogo sul bene E sul male E questa è una cosa Estremamente torqueniana Nelle sue opere Non c'è mai stata Una divisione nettissima Tra bene e male Verissimo Non sono opere In bianco e nero In particolare Nel silmarino Ci sono molte aree grigie E apprezzo molto Una conversazione Su questo aspetto Negli anelli del potere Si riflette molto Sul tema dell'ambiguità E sull'origine del male E su come il male Lavora e cresce Dentro di noi Vedere scene Come la creazione Degli anelli Il conflitto interiore Di Galadre È molto interessante E penso che anche Tolkien Sarebbe stato molto Interessato a quest'opera Sono molto curioso Di vedere Come andranno a parare Dove andranno a parare Ora Penso abbiano fatto Uno splendido lavoro Ora Alcune cose Che ha detto Sono molto interessanti Iniziamo dall'inizio Poi do la parola a voi Ragazzi Ho visto che eri Eri Riesci a parlare adesso? Sì non so Mi sentite a scatti Mi sentite bene? Adesso ti sentiamo un po' Un po' robotico Però ci sentiamo Meglio di prima Allora Lui ha detto Molto chiaramente È una fanfiction Ci vedo un po' Per quanto sia Una delle affermazioni Dichiarazioni più interessanti Che sono state fatte sulla serie Da addetti Ai lavori Da tolkeniani famosi Come appunto Come Ted Il fatto che lui Dica prima È una specie di fanfiction E poi dice Che c'è molto di tolkeniano O comunque una cosa Estremamente tolkeniana Già un po' Va a collidere Le due cose Vanno a contrastare Perché Se è una fanfiction È difficile Che loro riescono A trattare Di determinati argomenti In maniera tolkeniana Se è una fanfiction Poi che cosa dice Non credo che sia questa La fanfiction Non è una definizione negativa Però Ecco Questo secondo me È un errore Che fanno E in cui stanno incorrendo In molti E cioè Quello di andare A ignorare totalmente Le premesse Che erano state fatte Su questa serie Noi Lo sappiamo Che premesse C'erano su questa serie Questa serie Non doveva Essere Una fanfiction Questa cosa L'abbiamo detta mille volte Ma non perché lo pensiamo noi Ma perché Amazon Non l'ha mai pubblicizzata Come fanfiction Lo dico Lo ripeto Per l'ennesima volta Ted Nesmi Io ho tanto rispetto Per il tuo lavoro Da illustratore Però Quello che io Vorrei rispondere Con tutto il rispetto Del caso È Se Amazon Ci avesse detto Che sarebbe stata Una fanfiction Noi l'avremmo L'avremmo vista Con degli occhi diversi Con aspettative Totalmente diverse Da quelle che invece Amazon ci ha creato Facendo determinate dichiarazioni Dicendo questo Dicendo quello Dicendo che sarebbe stata La serie più grande Mai inventata Anche quello Ci sarebbe molto da ridire Quindi Il problema Non è la fanfiction Non è quello Il problema è che Non doveva essere Una fanfiction Caro Ted Quello è il problema Poi Lui fa Un discorso Anche qui Esattamente come fa Billy Boy Ragazzi Si focalizza Su una specifica cosa Che ha apprezzato E cioè Su questo conflitto Tra bene e male Ora Ne abbiamo parlato In merito a questa cosa In merito alle origini Degli orchi Come sono state proposte Nella serie Il fatto che Nessun Nell'universo Tolkeniano Nessuno è nato cattivo Tutti sono Sono stati corrotti I cattivi Tolkeniani Come appunto I vari Maya Corrotti da Morgoth E lo stesso Morgoth All'inizio dei tempi Non era malvagio Questa cosa La sappiamo Però Che cosa ha fatto Ted Nessun Ha preso Ha isolato Quest'unico elemento E l'ha utilizzato Per Elogiare la serie Ignorando tutto il resto Ad esempio Ted Nessun Non ha minimamente toccato La questione Silmaril Io non lo so La Silmaril E le Le lampade di luce La lampade di Silmaril Io non lo so Se non la toccate Perché non gli interessa O perché sapeva Che toccando quell'aspetto Si sarebbe invischiato In qualche problema Perché Se avesse Lui dice Sono stati bravi E intelligenti A allargare L'universo di Tolkien Che vuol dire Ted Che vuol dire Allargarlo Che cosa vuol dire Fra l'altro Ted Che è una È un artista È uno degli artisti Più fedeli Alla canonicità Che vuol dire Ted Ad allargare Ora Io non voglio mettere in dubbio La buona fede di Ted Ci mancherebbe Io lo rispetto Come illustratore E tutto il resto Come persona Non lo so Non lo conosco Però come Come illustratore Lo rispetto È uno dei 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 Principali Illustratori Torqueniani Non solo Della Della storia Di sempre Quindi ci mancherebbe Però Considerate questo Vi dico solo questo Lucca È stata tantissimo Convenzionata da Amazon Amazon aveva un proprio stand A Lucca Ted Nesmith Ha ritratto La locandina di Lucca Del Lucca Comi Eh Eh Ora io ripeto Non voglio mettere A In dubbio La buona fede di Ted Però A me Mi sembra Che lui Abbia cercato Di trovare Veramente Quel briciolo Di Qualità All'interno Di questa serie Ignorando Tutto il resto Così da poterne Comunque Trarne un discorso Positivo Molto positivo Perché Perché magari lui Ha È stato Il illustratore Della locandina Di un evento Sponsorizzato da Amazon Forse per quello Non voglio mettere in dubbio La sua buona fede Ripeto Ma è ovvio Che se tu vieni pagato Per fare un lavoro Eh Per un determinato Datore di lavoro Tu non puoi andare in giro A parlare male Del tuo datore di lavoro Questo credo che sia ovvio E in questo caso Il datore di lavoro Di Ted È Il Luca comic Luca comics E ovviamente Il Luca comics È sponsorizzato da Amazon Quindi Ripeto Non voglio fare Del complottismo Però L'affermazione Tutto questo L'ho tratto Dall'affermazione Che ha fatto Ted Che in parte È abbastanza È abbastanza Incoerente Con se stessa Ed è molto Superficiale Come affermazione Perché dire Mi è piaciuto Che hanno Come hanno affrontato Il concetto di bene e male E allora la serie è intelligente Solo per quello Mi sembra un po' limitata Come affermazione Se vuoi fare un'analisi Un po' più completa Dicci qualcosa in più E no Invece sono stati intelligenti Perché come hanno trattato Il bene e il male Che vuol dire Detto questo Io vi ho lanciato Le mie riflessioni Lancio quindi Lascio la parola A D-Med E a D-Med Cosa ne pensi Di tutte e tre queste Le abbiamo lette tutte e tre Quella di Billy Boyd Certo Di Bernard Hill E questa di Ted Nesbitt Cosa ne pensi In merito a tutto ciò Sì Allora Io credo che ci sia Una premessa da fare Bernard Hill è il più vecchio Di tutti e tre È quello che la carriera L'ha già avuta Ed è certo Che lui non tornerà In un prodotto Del Signore degli Anelli Perché lui è la faccia di Theoden Non lo prenderanno Per fare un altro personaggio Né negli Anelli del Potere Né in un altro Signore degli Anelli Perché se faranno Un altro Signore degli Anelli Lui sarà troppo vecchio E al massimo Potrebbe apparire Che so In un flashback Ma Poca roba Quindi lui se lo poteva permettere Di dire quello che pensa Voi è sbagliato Fare quell'affermazione Senza aver visto la serie Ovviamente Se è vero che non l'ha vista L'ha fatto a priori È sbagliato Indubbiamente Perché non è giusto Etichettarla in quella maniera Anche se Le premesse Non buone C'erano Gli altri due Invece Non tengono 76 anni Hanno ancora una carriera Davanti Tenesmi Sì però non è ricco È un illustratore E deve continuare a lavorare Probabilmente dovrà continuare a lavorare Fino all'ultimo giorno della sua vita Come anche l'attore Che fa Pipino Loro Non se lo possono permettere Di dire Peste e corna Di Amazon E del loro prodotto Di punta di quest'anno In cui hanno investito Tutti questi soldi Loro non se lo possono permettere Perché Non solo perché lui era Luca Comics Finanziata da Amazon Ma in generale Lui dovrà continuare a lavorare In ambito tolkieniano Non lo può fare Non se lo può permettere Ancora non si sa Che cosa faranno gli altri Che possiedono i diritti Al momento Gli unici che stanno facendo qualcosa A tema tolkieniano Sono questi tizi Quelli di Amazon La roba più famosa Che cosa puoi fare? Dire Mi fa cagare? No Come Billy Boyd Se l'è sfangata Tiran Parlando Concentrandosi Su un piccolo aspetto Billy Boyd Ha praticamente elogiato il montaggio Perché quello Ha elogiato Che bello Mi trova Numenor E poi mi trova Cazadum Uh che bello Incredibile La magia del montaggio cinematografico Quello ha detto Sì Ha sottinteso Che gli sono piaciuti Visivamente Sia Numenor Che Cazadum Punto Cioè i paesaggi di Numenor Perché poi se scende in strada Due Un incrocio Due panchine Abbiamo finito con Numenor Quindi Cioè anche lì Ha detto tutto e niente Ha elogiato L'unica cosa Che si è sentito di poter dire Senza scendere nei particolari E io non so se qualcuno Gli abbia fatto delle domande Specifiche Ma in nessuna intervista Neanche in inglese Lui scende nei particolari Per cui quello ha detto Ed è l'unica cosa Che ha detto sulla serie Lo stesso ha fatto Il signor Nesmith Anche in inglese Lui quello ha detto Sì il bene e il male È una cosa così vaga Che si può applicare A qualsiasi serie Ma a qualsiasi Mica solo quelle fantasy Hanno analizzato bene Il bene e il male Va bene anche per The Shield Va bene anche per Better Call Saul Va bene per qualsiasi serie Pure per Mercoledì Anche per cui Esatto E il bene e il male Minchia Ammazza Allora però È meglio Willow A quel punto Piuttosto che gli anelli del potere Se permetti Quindi vabbè Sì Però lui Non Non se le sentite Di dire una roba diversa Non poteva Lui non era nella posizione Di poterlo fare E neanche Billy Boyd Quell'altro tito Se ne può anche fregare Cioè lui Poteva anche dirlo Poi è stato eccessivo Probabilmente Un po' come quando Intervistano Scorsese Che parla Del film Marvel Che c'ha il dente avvelenato Anche lui Tanto anche quello Tiene 80 anni Può dire quel cazzo Che gli pare Tanto non cambia niente Questi due Non Non l'avrebbero potuto fare Neanche volendo E comunque Gli intervistatori Si sono ben guardati Da Anche lì Chiede lì Sì vabbè Però che cosa ne pensa Che so Della recitazione Di Galadire Che cosa ne pensa Di quella scelta lì Di quella Non l'hanno fatto Così Loro Non hanno dovuto Non sono dovuti Scendere nei particolari Lì secondo me Sarebbe stato un campo minato Perché a quel punto Se loro avessero chiesto a Pipino Sì vabbè Ma degli Hobbit Di testa scema Della tizia Che va in giro Con lo stai Che cos'è Che cosa ne pensi Nello specifico E lì E lì Lì se avrei voluto Vedere le risposte Invece di una domanda Generica E una descrizione Vaga Ma facendo così Era l'unica cosa Che potevano dire Non potevano dichiarare Un odio Né un disprezzo Né dire Che è fatta di merda Ovviamente Quindi Prendiamo le affermazioni Per quello che sono È come chiedere all'oste Se è buono il vino O se è buono il vino Di quello Da cui compra il vino Cosa dice No fa cagare Quest'anno No È troppo rischioso Per loro Secondo me Non avevano scegliere Io li capisco Dottor Tengo famiglia Assolutamente Ma io infatti Dimmi Io sono d'accordo con te Che gli verdi A Ted Ancora più che a Billy Boyd A Ted Che gli verdi Cioè lui Non può fare una dichiarazione Dove Alla Bernard Hill Sarebbe per lui La fine della Non dico della sua carriera Ma quasi Quindi è ovvio Lui rischiava Ritorsone da parte di Amazon Secondo me Poi Oh Io Come abbiamo detto Mille volte Io non metto In dubbio Che magari A qualcuno Di queste persone Che hanno fatto Dere mie ad affermazioni Abbiano veramente Apprezzato La serie O alcuni aspetti Assolutamente Sì Però Noi stiamo Commentando Le dichiarazioni Che loro hanno fatto La dichiarazione Come abbiamo detto Che quella di Bernard Hill Ha un senso Fino a un certo punto Perché non ha visto la serie E abbiamo criticato Quindi non è che stiamo criticando Solo chi la sta apprezzando No 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 Certo Perché non l'ha vista la serie Quindi ha fatto La classica dichiarazione Da vecchiaccio Va bene Che non si è visto Ma non sa manco Di cosa sta parlando E ci sta Billy Boyd Numenor Cazzo E ho capito E poi Dicci qualcosa in più Ad esempio Billy Boyd È stato uno degli Hobbit Se avesse davvero amato la serie Favrebbe detto Cazzo i pelopiedi Quanto mi son piaciuti Che fighi gli Hobbit Non li ha manco nominati Ha ripetuto Dieci volte Casa Dome È il numero Casa Dome è il numero E poi abbiamo Non li ha nominati Che ha fatto Ted ha fatto un discorso Molto generico Sul bene e il male Che comunque Anche su quello Avremmo delle cose Da Potremmo avere delle cose Da ridire Però vabbè Ci può stare Quindi Noi stiamo andando A giudicare A giudicare A commentare Le loro dichiarazioni Tutto qui Certo Eri Tu cosa ne pensi Su tutto questo Pastrocchio Allora innanzitutto Spero che mi sentiate Con fluidità Ti sentiamo Ma non ti vediamo Purtroppo Ti vediamo a scatti Però ti sentiamo Ok Vabbè Tanto Sono Bello lo stesso Allora Io Sinceramente Di pancia Mi viene da dire Che Bernard Hill Ha fatto La cosa giusta Cioè A cazzo duro Contro il muro Cioè Vaffanculo Sì Morte Ma io La rimetto L'intervista A Bert Per cui Cioè Come dargli torto Quello che ha detto Il fantasma È assolutamente vero Cioè Allora Se pensiamo Che negli ambienti Di Hollywood Si fanno i complimenti Tra iene Si odiano Tutti Profondamente E poi Quella gente Il tuo agente Magari Agente Di Al contatto Con quello Con quell'altro Cioè Ti fanno fuori Immediatamente Pensate a Brandon Fraser Che Per 15 anni È sparito Dalla circolazione Per dirne uno Ma lì la cosa Era molto grave E E quindi Hanno Pagate di Ditorsioni E Non si espongono Billy Boyd Cioè Ha detto benissimo Il fantasma Cioè Lui è un obito Un pelopiede Dovevano fargli La domanda Sui pelopiedi La Il La coppia Nori E Poppy Queste cose così C'erano tantissime cose Da chiedergli A Billy Boyd Non gliel'hanno chieste Perché probabilmente Sanno che Billy Boyd Dirà Una cosa Fals E allora Si sono accordati Per una domanda Più semplice E questo è quanto Per quanto riguarda L'artista Cioè Nesbitt Anche lui Cioè Deve lavorare C'è poco da dire Però Io non sono d'accordo Sul fatto di dire Che Bernard Hill È un boomer In realtà Secondo me Non è un'affermazione Da vecchio Anche se Ha tutti connotati E in parte Magari anche lo è Comunque L'affermazione di uno Che è stato tanto In questo mondo E sa Che quello che ha detto Corrisponde esattamente A verità Senza neanche guardarla Magari ha sentito Cioè Io non credo che Non abbia sentito Proprio niente Riguardo La produzione Gli Cerano Le dichiarazioni Fan Non fan I tolkeniani Non tolkeniani Credo che lui Si sia fatto un'idea Non gliene frega Proprio niente Tra l'altro Dobbiamo Sottolineare Una cosa molto importante Per quanto riguarda Di attori Loro Hanno Partecipato Per un brevissimo Periodo Della loro vita Ad un progetto O a Pd1 Nel caso di Laya Wood Per esempio Di Ian McKellen Ad un progetto Che è durato Un anno Due anni Cioè è finita lì E poi hanno continuato A fare altre 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 parti In altri Tanti film Teatri Corti Televisione Eccetera Noi amiamo Quei personaggi Loro no Cioè Quando Noi pensiamo A Pipino A Gandalf A Thorin A Aragorn Cioè Noi li amiamo Molto di più Di quanto Gli attori Amino I loro stessi personaggi Che hanno interpretato E quindi Allora In realtà Non gliene frega niente Cioè Ti dicono una cosa così E basta E quindi Quando noi vediamo In messa in scena Qualcosa che riguarda Tolkien E quei personaggi Galadriel Che le Brimbo A quelli Non gliene frega Proprio niente Infatti poi Disa L'attrice Non mi ricordo come si chiama Ma ti dice le sue cose Ma poi quella sta pensando Al suo prossimo progetto Cioè Noi restiamo dove siamo Quelli invece Continuano Nella loro Nella loro carriera Per cui Non ti verrà mai Nessun attore In attività A dire una cosa Alla Bernard Hill Bernard Hill Te la dice perché Ormai è libero Da ogni È grande Di età Però ti dice Quello che pensa E quello che pensa Non lo pensa In funzione del fatto Che è vecchio Pensa esattamente Quello che pensano Tutti quanti gli altri Soltanto che gli altri Non te lo possono dire Molto semplicemente Va bene Va bene ragazzi Va bene Allora Vengo a leggere giusto Tuoi commenti E Dice Davide La cosa sul bene e il male È una strata Pensate che Per apprezzare la luce Bisogna passare Troverso il buio Il contrario di Torquen Davide Allora Ted ha fatto un discorso Molto generico E però anche questo Che abbiamo commentato Non è andato nello specifico Non è andato nel dettaglio Sia perché probabilmente Magari in quel momento Non aveva tempo Sia perché Ragazzi Ted era a Luca Per lavoro Per esporre i suoi lavori Quindi magari Della serie Non ne voleva manco parlare Ne ha dovuto parlare Perché la domanda Gli è arrivata Ovviamente E lui è stato costretto A parlarne Quindi io Empatizzo anche Nei suoi confronti Che magari lui Non ne voleva manco parlare E sapeva costretto A parlarne E sapeva Come hanno detto Sia Dimmed Come ha detto Io all'inizio Ho detto anche Eric Che doveva parlarne bene E ha trovato Il primo modo Per parlarne bene E l'ha trovato Tutto qui Poi Magari gli sarà piaciuto davvero Ok Allora sono curioso Sarei curioso di sapere Cos'altro gli è piaciuto A Ted Nesmith Se non solamente Questa cosa Tra il bene e il male E basta Solo questo Ti è piaciuto Sarò un po' strano Però Se io dovesse uscire Un'altra dichiarazione Di Ted Dove dice Mi sono piaciute altre cose Tra cui questo 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 Allora andremo a leggere Per ora noi abbiamo commentato Quello che abbiamo letto Infatti ci tengo a ripetere ancora A rispondere anche ad Andrea Boomer o no Comunque ha ragione Secondo me l'ha vista la serie Andrea Io non sto dicendo Che non l'ha vista Sto dicendo che In base a quello Che ha detto L'intervista Quindi leggendo L'intervista A me non sembra Che l'abbia vista Perché se dice No Non sono Interessato Vuol dire che Non è interessato A vedere la serie Io posso immaginare Andando a parafrasare Il testo Magari l'ha vista Forse è espresso male Hanno tradotto male Non lo so Non lo sappiamo Ma sul testo Io posso immaginare Che non l'abbia vista Se poi l'ha vista Tanto di guadagnato Ancora meglio Tanto meglio Vuol dire che ha fatto Una dichiarazione Consapevole di quello Che ha detto Altrimenti Ha fatto una dichiarazione Con la pancia Di stomaco Ok Questa cosa Lascia il tempo Che trova Esattamente come L'intervista a Billy Boyd E la dichiarazione Di Ted Ness Peraltro Secondo me È da sottolineare Il fatto che Sia Ted Che Billy Boyd Non hanno parlato Di quello che li riguardava Personalmente Billy Boyd Non ha parlato Degli Hobbit Ted non ha parlato Di nulla Riguardante L'aspetto visivo Quindi Cioè il loro campo Nel aspetto artistico L'è piaciuto Non l'ha manco menzionato Quindi Boh Non so Poi Barto dice È vero che Amazon Non l'ha mai detto Che era una fanfiction E non lo farà mai Però i campanelli d'allarme C'erano già dei trailer Però questi Livelli di fanfiction Non li aspettavo Non li aspettavo Lo stesso Non li aspettavo lo stesso Ragazzi Discorsi sempre Sono sempre i stessi discorsi Se avessero detto Facciamo una fanfiction Ok Fanno una fanfiction E chi Non avrei detto nulla Non avrei criticato nulla Fanno una fanfiction Libere di fare quello che vogliono Ma Non doveva essere una fanfiction È lì Che l'ago della bilancia Cambia Perché Se avessero detto fanfiction All'inizio Allora uno si sarebbe messo il cuore in pace E invece no Boh Se a voi sta bene Che lo sia comunque Ugualmente E volete accettarla Come una fanfiction Anche se non doveva esserlo E vi va bene così Beati voi Vi invidio A me No Perché non mi piace Essere preso per il culo Tutto qui The region ci dice Diciamo che qualche Qualche critica Che ci fanno Se deve stare facendo Discorsi proprio assurdi Dicci perché The region Ecco la ragione The region You say that Mo Billy Boyd Mo Billy Boyd Deve lavorare Fino all'ultimo giorno La sua vita E inoltre deve leccare Il sedere a qualcuno Al quale Non deve Nulla Allora Penso che a Billy Boyd Faccia piacere recitare Ancora Della sua vita Almeno questo Credo che gli faccia piacere Perché è il suo lavoro Quindi Non recitare più Per il resto della sua vita Non credo che sia Tra le sue Almeno credo Poi se hai qualche affermazione Di Qualche ti chiede Sì di Billy Boyd Dove dici No io non voglio più recitare La vita mia Allora Vita mia Allora Deve leccare il sedere Ma non è leccare il sedere È che se tu ti fai nemici Gli addetti Ai lavori In questo caso Amazon Perché Scusate ragazzi Ma Usate la testa Per favore Se tu vai In un bar Ok Perché cercano Un dipendente Cercano un barista O un qualcosa E Prendi a calci in culo Il direttore E poi ci va Il giorno dopo A fare il colloquio Ma secondo voi Il direttore Che cosa potrà mai fare Vi assumerà Dandovi anche Una pacca sulla spalla O vi darà Una capata in faccia Io credo che la cosa Sia abbastanza logica Ed è risaputo Che oltre a Netflix Ama Tra in video E Amazon È tra i principali Produttori di serie È attualmente In circolazione Quindi Di cosa Stiamo parlando Bernard è andato A cazzo duro Perché a 77 anni Probabilmente ha detto Ma a me che cazzo Me ne frega Billy Boyd Ci è andato in maniera Molto più moderata Parliamoci molto chiaramente Se poi Oh Ragazzi Se poi voi avete Dei datori di lavoro Che vi assumono Anche se li prendete A calci in culo Ripeto ancora Vi invidio Perché Dalle mie parti Non succede Questa cosa Grazie Fabio Anche per la donazione Applica il principio Di Belzebù Ok Bisogna credere A chi ci perde Di più Quindi crediamo Agli showrunner Che hanno indirettamente Detto che fa schifo Allora A tale riguardo La cosa degli showrunner La leggiamo alla fine Comunque grazie Fabio Gli showrunner Come ho detto all'inizio Farebbero bene A fare silenzio Perché Sono persone Che stanno lavorando Alla serie La cosa migliore da fare Per te E non fare dichiarazioni Come quelle che hanno fatto Proprio la prima cosa Che ti insegnano Fa Vai Vai Stai tranquillo Con le dichiarazioni E invece loro Si sono andati Alla passaggio Comunque ragazzi Andiamo avanti Con le prossime Ecco allora Abbiamo letto un po' Abbiamo fatto una mini introduzione Di un'ora e mezzo Alla cosa Adesso andiamo un po' Nel succo della situazione Prima notizia Un po' più succosa La notizia è la seguente Sappiamo che Il nostro Adar È stato sostituito È qui Bam La bomba Quando è uscita Sta notizia Io ci sono rimasto male E lo sapete Perché Adar È Il nostro Particolare Joseph Moore A mio parere È stato tra le cose migliori Di questa prima stagione Tra le cose Poche cose migliori Della prima stagione Ora Leggiamo la sua dichiarazione Perché Che cosa è successo Joseph Ho amato il mio tempo Passato a esplorare La terra di mezzo E a guidare Diciamo immerso Nella mitologia torkeniana Sono Oh scusate Sono onorato Sono stato onorato Che il carattere Vi sia Sia stato Sia piaciuto Ed ha ragione Perché è piaciuto Ci ho tenuto molto A raccontare la sua storia Come attore Rimane Il mio desiderio Il mio lavoro La descrizione E l'esplorazione Del nuovo Di un nuovo personaggio Il nuovo mondo Wishing all day Vabbè Ok Avevo letto anche qualche dichiarazione in più Da parte di Joseph E invece no Qui purtroppo non viene riportata No Non viene riportata Nessun'altra dichiarazione Mi ricordavo di aver letto anche qualche altro D'anchiarazione da parte di Joseph Qualcosa di un po' più intrigante E invece no Semplicemente questo Qui viene riportata Ragazzi se avete qualche altro Ma perché si apre sta cacchio di pagina Se avete qualche altra dichiarazione da parte di Joseph Magari cercate di rincarciare in qualche modo E comunque essenzialmente Anche lui è stato molto diplomatico Ha detto Mi è piaciuto molto Mi ha fatto Mi è piaciuto molto esplorare la terra di mezzo Lavorare con Materiale tolkeniano Mi fa piacere che la vostra Il personaggio vi sia piaciuto E insomma E tutto il resto Quindi Non è che abbia fatto questa grande dichiarazione In realtà Almeno Ripeto Mi ricordavo che Che Avesse detto qualcosa di un po' più incisivo Invece No A quanto pare Mi ricordavo male Però andiamoci a leggere meglio la notizia L'annuncio che Joseph Mow Lascerà il cast In Anni dei Poteri 2 Ha colto tutti di sorpresa E' vero Anche il sottoscritto Ieri infatti Amazon Studios Ha rivelato i nomi Di sette nuovi interpreti Che si vanno ad aggiungere al cast Dopo li vediamo Della seconda stagione della serie Le cui imprese sono I riprese sono in corso Nel Regno Unito E tra essi c'è anche Sam Hazeldine Che sarà O Hazeldine Hazeldine Non lo so Hazeldine Non lo pronuncerò così Che sarà il nuovo volto di Adar Il capo degli Orchi Nelle ore successive Ah c'era anche la traduzione Della dichiarazione La leggiamo pure In italiano tradotto meglio Magari come l'ho tradotto io Ho adorato il tempo Che ho passato esplorando A tre anni e mezzo Immergendomi nella mitologia di Tolkien Sono davvero onorato Del fatto che il personaggio Sia stato tanto apprezzato Ci tenevo tantissimo Che raccontassimo la sua storia Come attore La mia speranza Il mio lavoro E' esplorare i nuovi personaggi In mondi Auguro ogni bene Al cast e la truppe Della seconda stagione Farò il tipo per voi Da bordo campo Va bene E l'attore britannico E' noto anche Stiamo parlando sempre di Joseph Maul Mentre Asseldine è britannico Ha una lunga catena alle spalle Ed è comparso in serie Come Peaky Blinders In cui interpretava George Sewell Non me lo ricordo Il personaggio che ha fatto In Peaky Blinders Non so se io l'abbia visto Apprezzata la serie Resurrection E in film come Ti ammazzo il bodyguard Vabbè E per darvi un'immagine Dell'attore Per darvi una faccia Vi metto la sua Pagina di Wikipedia Eccolo qui Sam Asseldine Eccovelo qua Ora Vedete voi Questo sarà Il nuovo Other Il che Il viso A me Come nuovo Other Non mi dispiace Adesso io non so Quanti anni Forse qui era un po' più Giove Un po' più giovinicello Rispetto a me Sì ma più o meno 22 Se hai visto Sandman Lui c'è anche lì Eh ma un buon ricordo Ma sta pure in Last Duel Ha fatto parte di Last Duel Che è un film Uno dei miei film preferiti L'anno scorso Il 2021 E poi ha fatto parte È un comunque molto esperto Sulle serie Lo abbiamo visto Abbiamo letto anche Peaky Blinders Eccetera eccetera Insomma ha fatto un po' di cose Insomma Diciamo che potrebbe sicuramente Potrebbe sicuramente Far giustizia Al personaggio Il problema qual è? È che stanno sostituendo Pur sempre Uno dei migliori personaggi Se non il miglior personaggio Della prima stagione O meglio L'attore che ha interpretato Quel personaggio Ora Io ho Nulla è perduto Nel senso che Non voglio partire Col presupposto che Sam Sarà peggiore Di Joseph Assolutamente no Abbiamo visto Che è un attore Di una certa esperienza Io non me lo ricordo In ruoli specifici Particolari Dove ha Non mi ricordo Che abbia brillato In qualcosa Che Almeno che io ho visto In Sunman E in Peaky Blinders Ha fatto parte Ho visto entrambe le serie Però io non me lo ricordo Però Staremo a vedere Fatto sta che Ripeto La mia preoccupazione È che È stato Intaccato Uno dei migliori Personaggi Della prima stagione Ora Potrò andarci a guadagnare Potrò andare a peggiorare Il personaggio Lo staremo a vedere Però Lasciatemi Un minimo Di preoccupazione Poi Diciamocelo Molto chiaramente Ma proprio da un punto di vista estetico Vedere un personaggio importante Come Adar Che cambia aspetto Già alla seconda stagione Non è che fa piacere Proprio dal punto di vista visivo Vedere che cambia faccia Non fa piacere come cosa Non fa mai piacere Quando in una serie Un personaggio perde Il proprio attore Viene sostituito l'attore Non fa mai piacere Perché si crea Un distacco visivo Che dà fastidio Che almeno a me Dà tremendamente fastidio In questo caso Stiamo parlando di un personaggio Che si basava molto Sull'aspetto estetico E a loro Hanno indugiato molto Sul viso di Adar Durante questa prima stagione E il fatto che Qua Possa cambiare Attore A me Sinceramente Mi preoccupa Oltre a darmi Un po' Fastidio Dimed Dimed Cosa ne pensi tu A riguardo? Allora Intanto stavo rispondendo In live Hanno chiesto Che parte ha fatto In Sandman Lui era il padre Adottivo Del ragazzino Il fratellino Della ragazza Vortice dei sogni Quella che appare Nelle puntate finali Lui era il ragazzino Che viene segregato In casa Abusato Dal genitore Maschio Che lo maltratta Di brutto Ed è molto bravo A fare il cattivo L'abbiamo L'ho già visto Fare il cattivo In altre serie Però in effetti Cambiare Uno dei volti Principali Dimed Il commento Con Grindelwald È andata così bene Vabbè Cioè Sono andati male I film In generale Direi Quello è stato Uno degli elementi Ma non era Il principale problema In una serie Secondo me Ancora peggio Che in un film Perché durerà più tempo O almeno ti aspetti Che lo facciano E li identifichi Fortemente I personaggi Con il volto Che hanno Io non so Quanto a lungo Sarebbe durato Quel personaggio Qualcuno ha scritto In chat Sapeva che in realtà L'avrebbero tolto di mezzo Molto presto Nella seconda stagione E li ha sfanculati Io non credo Nel senso che Rinunciare comunque Alla paga Che gli avrebbe dato Amazon Anche per apparire poco Considerando che stanno girando a Londra E non più in Nuova Zelanda Che dice Affanculo Deve rinunciare A dell'altra roba Non lo so Anzi Se davvero sarebbe Forse apparso poco Gli avrebbero comunque Dato dei soldi Avrebbe comunque Fatto curriculum E avrebbe potuto Fare altre cose Non lo so Tu dici che c'è Puzza di brociato Più di quanto Possa sembrare Più di quanto Secondo me Sì secondo me Non è una questione Di screen time Secondo me Gli faceva proprio schifo Come sarebbe diventato Il personaggio E probabilmente Non voleva essere Associato A quello Che sarebbe stato Il suo personaggio Nella seconda serie Perché altrimenti Davvero Io non so Se abbia dovuto Pagare delle penali O se Avendolo detto Con sufficiente anticipo Non c'è problema Questo Non credo Che verrà mai fuori Questa cosa Però Non è una decisione Se ha rinunciato A un contratto firmato Dovrà pagare qualcosa Dipende se Dicendo un anno prima Basta Però se loro Avevano già iniziato A girare Quando la prima Non era neanche finita Lui l'ha detto adesso Cioè Deve essere entrato Veramente in contrasto Con Gli showrunner Ma pesantemente E deve averlo fatto Adesso Cioè Da poco Ed è per questo Che io penso Che loro stiano Riscrivendo L'intera seconda stagione Quando l'hanno riscritta Per diventare Per diventare più Canonici Han detto Adar Che se lo sono Inventati Da zero Lo cancelliamo Ragazzo mio Lo togliamo Farà una fine Di merda Per sparire Prima possibile E lui ha detto A questo Allora Allora Va fanculo Se deve apparire Per cinque minuti Avere una paga ridotta Del 90% Ed essere pure Trattato in merda Allora Fanculo Fate l'interpretare Da qualcun altro Cioè Credo A me sembra L'unica spiegazione Logica Cioè Altrimenti Perché abbandonare Un progetto Del genere Non è che lui Sia la star Del momento Che fa film Di continuo Già ricco Sfondato Chi se ne frega Mi sembra strano Cioè Veramente Deve essere entrato Pesantemente In contrasto Con gli showrunner Per affermare Voglio esplorare Nuove parti Oppure Gli hanno proposto Un contratto Per un'altra serie Così grossa Che ha detto Vabbè Devo scegliere Fanculo Questi tizi Vado dall'altra parte Però Più grossi Non ha detto cosa Ah Boh Magari dove sarà Protagonista Dove non verrà Fatto fuori Nella seconda stagione Non lo so Non Chissà Magari Le han telefonato Quelli della Embracer Gli han detto Guarda Facciamo i film Del signore degli anelli Vuoi partecipare Però molla Amazon Ok Addio Non lo so Però Deve esserci qualcosa Di grosso Di piatto Altrimenti Non la molli così Eddie Tu che ne pensi A riguardo Nel frattempo Io ho questo qua Ragazzi È il nuovo attore Di Adar Per chi Magari è arrivato Adesso Allora io mi sono fatto Un'idea precisa Di questa situazione E Secondo me Rescindere il contratto Da parte di Joseph Molly È stato Semplice Come bere un bicchiere Di acqua Mi spiego Probabilmente lui Quando è stato Castato Ha fatto L'audizione Per Adar Con L'idea Che sarebbe Stato Sauron E quindi E quindi Lui Credeva di essere Sauron Ce l'ha detto L'attore di Albrand Che anche loro Fino alla fine Non sapevano Chi fosse Sauron O no Fino alla fine Dele riprese E quindi È improbabile Che lui Abbia scoperto Questa cosa Durante la produzione Nel contratto C'era scritto Che avrebbe avuto Il ruolo Di Sauron O quel tipo Di personaggio E Ha receso Il contratto Non deve pagare Niente Semplicemente Se ne va Grazie a tutti Arrivederci Io ho fatto L'audizione Per fare Sauron Sauron Ha mille Mille altre variabili Una di quelle Poteva essere Adar Mi hanno fatto La supercazzola Perché Questa cosa Del mistery Della prima stagione Ha coinvolto Anche Gli attori All'interno Della produzione Neanche loro Sapevano Forse Del vero Chi fosse Chi E quindi Gandalf L'attore Non so il nome Ha scoperto Di essere Gandalf All'ultimo episodio Albrand Ha recitato Tutta la stagione Da Albrand Cioè Albrand Era Albrand Non era Sauron Non scherziamo Dai Cioè ragazzi Non scherziamo Con certe cose Quando si parla Di 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 Recitazione Di 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 Scrittura Di un testo E Adar Ha recitato Da Sauron Semplicemente Arrivata alla fine Guarda tu Sorry In realtà è Albrand Sauron Perché vabbè Dai Marketing Abbiamo cambiato In corsa Questo è Questo è quanto E allora Lui ha detto Che c'è Me ne vado Sei d'accordo Con Daniela Bergamini Che dice che è poco professionale Però sarebbe poco professionale Perché sarebbe poco professionale Se io faccio una lezione Per fare Gandalf E poi scopro di essere Saruman Io ho fatto Una recitazione Un'intera stagione Proiettando quel Quel personaggio lì E poi non sono quel personaggio lì Pensate ad Alan Rickman Alan Rickman Sapeva Dalla Camera Dei Segreti Che il suo personaggio Severus Piton Non era cattivo Veramente E quindi Ha messo in scena Un Severus Piton Che Guardando oggi Tutta la saga Capisci Che si Che diventerà Il personaggio Del Dei Doni della Morte Seconda parte Che si Redimerà E quindi Lavori in un certo modo Non è professionale Invece che tu Sei Sauron Sottometite spoglie Come Adar E poi non sei Sauron Scusa ma io Che cazzo ho lavorato a fare Ma sapete che c'è Ma andate a venire a fanculo Tanto Non ero nessuno Nessuno tra virgolette Non ero nessuno prima Con questa serie Mi avete Avete frustrato La mia arte Il mio essere artista Il mio dare il contributo Perché Gli attori non sono Delle marionette Comunque anche loro Mettono del proprio All'interno di un personaggio E quindi Sapete che c'è Andate a venire a Fanculo C'ha ragione Bernard Hill Andiamo a fare Titanic 2 insieme Io la vedo Da questo punto di vista Ci sta Ci sta assolutamente No Aspetta Aspetta Ho rotto questa cosa Gli hanno detto Quelli dell'HBO Che parteciperà Al nuovo spin off Già annunciato Di Del mondo Di Di Le croniche del ghiaccio Del fuoco Lui era Lo zio Benjen Stark In Nel vecchio cosa In Game of Thrones Gli hanno detto Guarda Ti riprendiamo A fare uno Stark O Benjen Stark Lui ha visto House of the Dragon Ha detto Ti è Anderi del potere Torno con l'HBO Addio Anche questo Sarebbe molto possibile Perché House of Dragons È molto prima Rispetto A Game of Thrones Quindi non so se Quel personaggio Avrebbe un senso No 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 E che Sembrerebbe che Vogliano fare La storia Di lui Di Jon Snow Successivo Agli eventi Ma anche Che rigirino L'ottava Perché si è addirittura Appaventato quello Però di me Non abbiamo Dichiarazioni No 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 Non esistono Non esistono Io ho detto Metti che Per un progetto Dal genere Secondo me Li avrebbe scaricati No io non credo Che lui Lo possa fare Non avrebbe potuto Farlo per via Del contratto Cioè tu non te ne vai Tu sei Sei con noi Con Amazon Devi fare questo progetto E quante stagioni Servono Le farai Se lui Se n'è andato Anzitempo L'attore È sostituito Quindi il personaggio È vivo Perché altrimenti Uno poteva dire Sapete che c'è Magari ha fatto La prima puntata Morre nella prima puntata Non lo dicono a nessuno Che lui È morto Per evitare lo spoiler Però Vabbè Lui ufficialmente Se n'è andato Sanno che non è lì Presente nel set Allora Si inventano Una minchiata temporanea No in realtà Il personaggio È ancora vivo Perché l'attore È stato sostituito Quindi io penso Che lui Non avrebbe potuto Mai e poi mai Rescindere un contratto Del genere Perché so cazzi Specialmente Per un personaggio Di prima fila Come Adar Che lo è stato Per tutta la prima stagione E se lo ha fatto L'ho fatto appunto Perché il contratto Che lui ha firmato Non ha riflesso Quello che è stato Il suo personaggio Alla fine Della prima stagione Cioè lui Non è Sauron Si è rotto il cazzo Io non volevo fare Adar Che cazzo Mi frega Io ho voluto Partecipare A firmare A questo progetto Perché sarò Sauron Pensa che bello Tu Che sei un attore Che ti chiamano Per fare Sauron E poi non sei Sauron Ma scusate ragazzi Ma state giocando Avvocatino Vieni qua Gli saranno voluti Un paio di settimane Per svincolarsi Della cosa Allora rivederci Grazie L'accordo Avrà previsto Il fatto che lui Non dirà mai La verità Perché poi funziona così Ok Amazon dice Va bene Potrebbe Non dire mai Stiamo in pace Siamo tutti tranquilli Tu non ci fai Una figura di merda Vuoi andare a fare Benjen Stark Fai un po' Quello che cazzo vuoi Però per potersi Svincolare Alcune clausa Del contratto Lo hanno reso possibile Va bene D'altro canto È stato molto generico Anche lui Voglio esplorare Nuovi personaggi Punto Non ha detto altro Che vuol dire? È molto vago Anche lui Giustamente Il terzo occhio Dice Comunque Nella sua pagina Instagram All'attore di Adar Metteva post Molto criptici A riguardo Secondo me Comunque Almeno all'inizio Ci teneva A quel carattere Però magari Non era sicuro Di conservarlo Non era sicuro Di rimanerci Legato Non lo possiamo sapere Abbiamo provato A fare qualche po' Ragazzi Stiamo ipotizzando Su queste cose Stiamo ipotizzando Quello che stiamo leggendo Quello che possiamo fare Comunque Leggo qualche commento Frank Bisogna deve capire Se se ne è andato O l'hanno mandato via E questo Stiamo provando A ipotizzare Io opterei Per se ne è andato via Poi Vedi tu Allora Ragionate in questo modo Perché Amazon doveva Mandar via Uno dei migliori attori Della serie Uno dei migliori personaggi Della serie Qual è il senso Perché Perché ha chiesto Troppi soldi Ma non credo Che abbia chiesto Chissà quanti soldi Quindi perché Avrebbe dovuto Mandarlo via No ma poi Il discorso dei soldi È molto semplice Cioè tu hai un contratto Per quel personaggio Ok vuoi più soldi Fine nella seconda stagione Il personaggio muore E ti attacchi al cazzo Però Il personaggio L'abbiamo Beh no Allora no Questo non funziona Però in una serie Perché se il tuo personaggio Piace E tu chiedi più soldi Te li danno Avete presente Quanto pagavano Quelli di Big Bang Theory Alla fine Cioè No 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 Il personaggio piaceva Se lui avesse negoziato Per avere più soldi Forse gliele avrebbero anche dati Non è Lui ha affermato Comunque Che se n'è andato lui Di sua volontà Cioè Questo l'ha detto lui A meno che non abbia Palesemente mentito Lui ha detto Di essersene voluto andare via Non che è stato cacciato Quindi una sua scelta Quello che dici tu È verissimo Però Sarebbe stato Per la Terza stagione Ormai la seconda Era in corso Cioè Comunque i contratti Si firmano Non due settimane Prima di iniziare La produzione Quello è sicuro Però non sappiamo Quale sia la clausola Cioè se la seconda stagione Esce tra molto tempo Lui magari Gli ha dato il preavviso Cioè magari Non ha pagato una penale Non lo so Cioè Non è detto Allora Per andare Un po' avanti Perché non posso Non fossilizzare Vai 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 L'argomento Leggo qualche commento Così poi andiamo ai prossimi Che ci sono gli ultimi Due tre Articoli Che sono i più interessanti Sapete a cosa mi riferisco Zaza ci dice Comunque ha un bel curriculum Magari è bravo Però non mi convince L'aspetto Io non ho messo in dubbio Che sia bravo Ragazzi Attenzione Non è bravo Da quello che Si legge anche in giro Io non me lo ricordo Nel In un ruolo specifico Nonostante io abbia visto Qualcosa che lui ha fatto Quindi Non mi è rimasto Particolarmente impresso Quando mi sarà capitato Davanti Però Sembra un bravo attore Ha un buon curriculum L'aspetto Ecco io vi ho messo Quest'immagine Proprio per questo Questo è Joseph Mow Come Adar E questo è Sam Sam Senza Trucco Né nulla Quindi È al suo stato naturale Ci potrebbe anche stare La differenza si noterà Ragazzi Questo è poco ma sicuro Quello è il discorso Che facevo io all'inizio Questa contrattura Che si verrà a creare Darà fastidio Darà fastidio a me Immagino anche ad altre persone Come mi dà fastidio Anche in altre serie Non è che è la prima volta Anche nei film Nelle saghe dei film Quando cambia un attore In un nuovo film Ha interpretato il stesso personaggio A me dà fastidio Perché ci si viene a creare Un Una cesura visiva Che è fastidiosa Per quanto mi riguarda Vabbè Comunque Andiamo avanti Prossimo Articolo E leviamo Ad Allora Questo qui Lo leggo io rapidamente C'è poco da dire Sono state pubblicate Alcune foto Dal nuovo set In Gran Bretagna Nelle immagini riprese Con un drone Vediamo alcune Imponenti scenografie Di quelle che sembra Essere un set Del regno degli Elf Le architetture Sono decisamente Riconoscibili Anche se non è chiaro Quale regno possa essere Altre immagini Mostrano invece Architetture numenoreane I set in questione Si trovano ai Brace Studios A ovest di Londra Quindi siamo La seconda stagione A Londra In Gran Bretagna Dove si è spostata La produzione Dopo aver lasciato A Nova Zelanda Alla fine della prima stagione La costruzione prosegue Ormai da alcuni mesi Si tratta quindi Di un set molto Di set molto elaborati Che verranno utilizzati Per diverse scene Questo è un articolo Del 26 dicembre Quindi Nella metà Fine dicembre Due settimane fa Stavano costruendo Questo set Che è il seguente Seguente Aspettate che vi mostro Anche le immagini Perché si è aperto Un nuovo Una nuova finestra Un attimo solo Eccola qua Ok Queste sono le fotografie Fatte con un drone Non so se legalmente O meno Se l'hanno pubblicate Se l'ha pubblicata Fellowship of Fun Immagino Che sia abbastanza Legittime come foto Immagino Bellissima anche Il container Qui di MSC E comunque Ci troviamo Si vede peraltro Che questa è la campagna Londinese Campagna inglese Questo è il set In costruzione Vedete A me sembra Il set Di Numenor Si Questo è Numenor Non è un regno Nel mezzo della campagna Proprio Stanno costruendo A me mi sembra Il set di Numenor Questa mi sembra Una specie O forse Non lo so Allora Da questa specie Di Chiostro Centrale In mezzo A questa piazza A me Effettivamente Questo chiostro A me sembra Più una struttura Elfica Questa Quella non è Una copertura Non so come Pergolare Eh si Pergolare A zoomare No non me lo fa Non me lo fa zoomare Più di tanto Vabbè Vabbè Comunque queste sono Alcune delle foto Dal set Ragazzi Quindi Questo per darvi anche Un'idea di quello Di qualcosa Nei backstage Della nuova Della nuova stagione Insomma E Va bene Staremo a vedere poi Come sfrutteranno Questo luogo Poi ce lo ricorderemo Quando magari vedremo Le immagini Girate In questo punto qui Comunque se volete La trovate Su fellowship of fans Su Questo credo sia Su twitter Va bene Era giusto giusto Per farvi vedere Qualche altra cosa Che è uscita Anche qualcosa Divisivo Andiamo avanti Prossima Prossimo articolo Allora il prossimo articolo Riguarda Un aspetto che Abbiamo Spesso trascurato In realtà Parlando Di questa serie E cioè La regia Abbiamo parlato Soprattutto di Sceneggiatura Di computer grafica Che comunque Dunque è un lavoro Principal modo Di post produzione Quindi Il regista Può A grandi linee Supervisionare Sulla post produzione Però Quello che ci mette la mano Poi sui tecnici Di post produzione Andiamo a vedere Chi saranno Le registe Di questa seconda stagione Amazon ha confermato I nomi che lavoravano Lavoreranno Dietro la macchina Da presa Nella seconda stagione Si tratta di un team Tutto al femminile E già qui dico Sarà stato fatto Apposta questa cosa Vuoi vedere che Non c'era manco Un regista Maschio Disponibile Non che Ci mancherebbe Però Dico Su tre Registi Sono tutte e tre Donne Ora È una cosa Fatta apposta O Semplicemente Capitato Ripeto ancora Non sto Mettendo in dubbio Ci mancherebbe La bravura Di queste tre Registe E O Voglio Mi Certo Non sto qui A criticare Il fatto Che siano donne Però Mi chiedo Visto che L'inclusività Di questa serie Il fatto che ci siano Tre donne Come registe È un caso O è stato Evoluta come cosa È pianificata Domanda che lascio La Semplicemente La lascio a voi Datevi una risposta E la La giro anche I nostri ospiti Ciascuno regista Si occuperà Di più episodi Sono Charlotte Branstrom Sana Humrey E Louise Hooper Branstrom Che ha già Direto due Acclamati episodi La prima Acclamati Episodio Vabbè Della prima Non lo so Di anelli del potere C'è L'episodio 6 E il 7 Se non sbaglio Udun E l'occhio Sarà Legista Di quattro episodi E ricoprirà Anche il ruolo Di co Executive Producer Per la nuova Stagione Humrey E Hooper Dirigeranno Due episodi Di ciascuna Branstrom E Humrey Sana Humrey È abbastanza priva Di esperienza Ha fatto Tre film Di dubbio gusto E cioè Something new 2006 Film Sconosciuto Quattro amiche E un paio Di jeans Due Ok Del 2008 E rimbalzi D'amore Del 2010 Ora Io mi chiedo Ah E prima di questo Ha fatto dei video musical Dei video musicali Ora mi chiedo Una regista Che ha fatto Something new Del 2006 Quattro amiche E un paio Di jeans Due E rimbalzi D'amore A cui vengono affidate Due E due episodi Della Della serie Non vi sembra Un po' eccessiva Come cosa Non vi sembra Una scelta Un po' Azzardata Stiamo Comunque Allora E dal mio Punto di vista Poi magari Questa Sam Humrey Si rivelerà Essere Il genio Incompreso Della situazione Ma Se fino adesso Ha fatto tre film Che non si riconosce Non li conosce Nessuno Ci sarà un motivo Ora Uno Come ha fatto Arrivare A un livello Tale da Essere Assunta Per girare Due episodi Di questa serie E Questo mi chiedo Dal mio punto di vista Almeno Vedendo il suo Curricolo E come dare Una Ferrari Perché alla fine La serie si propone Di essere una Ferrari Da un punto di vista Anche di budget Tutto il resto A un bambino A una persona Non incompetente Ma inesperta Perché è una persona Che ha fatto tre film Di questo tipo E non ha girato Nessuna serie Lei non ha nessuna serie Nessuna esperienza Con le serie Cosa che invece hanno Sia Charlotte Braunström Che è la più esperta Di guardo Ha una carriera Lei sì che è esperta Una carriera che inizia Degli anni 80 Sia la stessa Louise Hooper L'altra regista Ha fatto esperienza Con Sandman Con The Witcher E così via E con altre Molte altre serie E entrambe Queste due Registe Hanno grande esperienza Sia lei Sia Labranström Che Cooper Invece questa Samara Hamry Non si sa Da dove è uscita Hanno beccato Hanno preso La prima regista Che c'era in circolazione A quanto pare Ora Io non voglio Mettere in dubbio Che lei Magari Sia in grado Di fare un buon lavoro Allo stesso livello Delle altre due registe Però Sarei curioso Di sapere Con quale Criterio Hanno assunto Questa regista Potenzialmente Abbastanza inesperta Per girare Due episodi Di questa serie Sarei molto curioso Di sapere I loro Di conoscere I loro criteri Detto questo Lascio la parola Ad Eric Eric Cosa ne pensi Di queste tre scelte E ribadisco ancora La domanda Che ho fatto prima Secondo te Il fatto che siano Tre donne È casuale O è stato pianificato Ti rispondo subito A quest'ultima cosa Secondo me È casuale Non c'è Un piano Dietro E ti spiego perché Quindi rispondo Alla prima domanda Per quanto riguarda La Branstrom Lei Ha diretto Due episodi Dove c'è stata Molta azione È stata quella Diciamo Dell'azione Della serie Le battaglie Quella Lì Nella Nella cittadina Insomma Della terra del sud E quindi Ci sta che Se loro hanno Cercato di impostare La seconda stagione Con più battaglie Ha senso La riconferma Della Branstrom E quindi Per quello che ho capito Sarà anche Un po' quello che era Bayona Nella prima stagione Cioè Un po' Il La special guest Il regista capo Del teatro A New York Leggiamoci proprio L'intero curriculum Ha studiato Il teatro a New York Dopo aver provato A fare l'attrice Si è concentrato Sulla regia Iniziando l'attività Nel 2000 Come regista Di video musicali Avvicinandosi quindi Al mondo della musica Uno dei primi video musicali È stato uno di Maria Carey Da quel momento Non si è più fermata Collaborando con Jay Z Destiny's Child Prince Mary J Blight Mary J Blight Josh Stone E Nicky Minaj Ah Nicky Minaj Ok Al struttivo ci sono Anche diversi film Per il cinema Il primo è il quale Something New Vabbè i film Che vi ho appena citato Insomma Questo è il curriculum Di San Quindi Durante la direzione Di questa direttrice Di questa regista Avremo il balletto Di Galadriel Da mettere su TikTok Io l'ho detto Gennaio 2023 L'ho detto io Comunque Vabbè Dirigerà il balletto Di Galadriel Non faranno ballare Lei e Celeborn Li faranno fare il balletto Lei e Celeborn Finalmente Così li vedremo Riunirsi E tutti E faranno le coreografie Esattamente Quindi Quindi in realtà Lei sarà una Esecutrice Tecnica Non ho nessun dubbio Che sarà in grado Di poter dirigere Gli episodi Ma in realtà Questi registi qua Delle serie tv A meno che non parliamo Di casi particolari Sono degli esecutori Cioè loro Non hanno la sceneggiatura In mano Cioè Non partecipano Alla sceneggiatura Perché la scrivono Gli showrunner Cioè La scrivono gli sceneggiatori Sotto indicazioni Gli showrunner Non decide Come deve iniziare O finire l'episodio Perché lo decidono Gli showrunner Decidono tutti gli showrunner E A Charlotte Branstron Questa volta Per la seconda stagione Hanno dato delle direttive Charlotte Branstron Darà Trasmetterà Queste direttive A questa Regista Che Eseguirà Semplicemente Le scene Coordinerà le cose Farà esperienza Ci sta assolutamente Che 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 Ha conosciuto Che non abbia fatto niente speciale Anzi Uno che Uno che ha fatto Cioè Tarantino Ce lo vede a dirigere Un episodio di una serie Cioè Non viene questa gente qua Vengono Semplicemente Questi Mestieranti Probabilmente Anche Anche molto brava Aspetta Harry War Tarantino Ha diretto L'episodio di una serie Ha diretto L'episodio di CSI No Vabbè Infatti Ho detto A parte Cose Cose Molto Ha diretto Però Ha diretto Tanto tempo fa Però l'ha fatto Tanto tempo fa Quindi Dell'altra invece Magari è una che ha Più Più esperienza Eccetera Ma Su che siano tre donne Non Non c'ho niente da dire Cioè Mi Mi terrò Mi tengo Le mie recriminazioni Per dopo Quando vedrò Quello che ha fatto Se è un lavoro buono Se è un lavoro Harry Ci tengo a chiarire Ci tengo a chiarire Non voglio che Vengano fraintese Determinate cose Il problema Non è che sono tre donne Il problema è Vorrei capire Quali sono stati i criteri Per aver scelto Queste due registe Ora Ripeto ancora Su Eh Vabbè Sulla Branstrom Abbiamo Una strada Che è brava Questo Quello che Quello che volete voi Questa Louis Hooper Qui il criterio potrebbe essere Ha un minimo di esperienza The Sandman The Witcher E così via Va bene Ci sta Ma questa Sana Henry Che non ha Un bricolo di esperienza Allora Come dici tu La Branstrom Sarà La direttrice generale Per quanto Comunque Gli esecutori Sul campo Sul set In realtà Sono gli assistenti Alla regia Gli aiuti registi I vice registi Come li vogliamo chiamare Gli assistenti Sono loro che Quando il regista non c'è Sono loro che Dirigono la situazione Però ho capito Quello che tu hai detto Cioè Quella che Diciamo Guiderà le danze Sarà La Branstrom E quindi darà le direttive Alle altre due Però Se Il testo ci dice Che sarà comunque lei A dirigere due episodi Vorrà dire che sarà lei A dirigere sul campo Il tutto E se tu Non hai Esperienza Nel In quel settore O meno nel Nel settore seriale Lei non ne ha Per nulla Mi risulta un po' Come dire Un po' strano Che abbiano scelto Se tu hai a disposizione Magari Altri registi Che hanno più esperienza Anche nel settore seriale Penso che tu La tua nave La tua Ferrari Preferisci darla in mano A una persona Con maggiore esperienza Piuttosto che A una persona Che ha fatto tre film Messi in croce E qualche video E i videoclip musicali Con tutto il rispetto Per i videoclip musicali È una cosa ovviamente diversa Poi Ripeto ancora Magari Questa Questa regista Si rivelerà Essere la migliore Delle tre Tutto quello che volete voi Però Noi stiamo aggiudicando Valutando Quello che noi Al momento vediamo Il suo curriculum Lascia un po' a desiderare Quindi Mi è venuto un po' Il pallino Di dire Quali sono i criteri Però va bene Giusto l'ultima cosa Frank Io in questo momento Sto producendo Un cortometraggio Come regista Ed è la mia prima esperienza E sto notando Delle cose A livello organizzativo Che mi fanno riflettere Su certi tipi di scelte Allora Una serie tv Come Gli Annelli del Potere Dove tutto è scritto Tutto è storibordato Tutto è sceneggiato Scenografato Eccetera Due episodi O gli episodi Si dirigono da soli Perché Chi sta alle riprese Chi sta al montaggio Chi è il direttore Della fotografia E la presa diretta Sanno quello che devono fare Devono seguire lo schema E quindi ci sono Due tipi di registi I registi artistici Quelli che hanno in mano Il progetto Che decidono loro Tutti gli aspetti Della produzione E poi ci sono I registi tecnici Cioè Lei deve andare a parlare Con Morfitt Clark Spiegarle le scene Convincerla Fare un po' di networking Andare lì Fare il ciak Gestire la cosa Ma in realtà Non sarà una regista Artistica Sarà una regista Esecutiva Lei sa quello che deve fare E lo deve trasmettere agli altri Cioè paradossalmente Potrebbe anche Non esserci nessuno Come regista Che tanto Certe figure professionali Vanno avanti lo stesso Capito? Cioè servirebbe Guarda Il film si può girare Anche soltanto Con il segretario Di produzione E Il direttore della fotografia E tutti quanti Eri Con un progetto del genere Per due episodi Da persona che Sta frequentando Un'accademia Di cinema Sono io E sto frequentando La Picereco M Per il secondo anno consecutivo Sia per recitazione cinematografica Che come filmmaker Quindi E sto lavorando A tre Cortometraggi Dove uno faccio l'attore In un altro faccio il regista E in un altro sto Nella squadra Che lavora Alla Cortometraggio Capisco perfettamente Quello che stai dicendo Però Il mio dubbio È un altro Non è Quello che poi Lei farà sul campo È il seguente Se tu hai Tutti questi soldi E hai la possibilità Di Andare A prendere Magari Persone più esperte Di questa Regista Che ce ne sono sicuramente Perché Non punti All'esperienza Perché non punti A qualcosa di più esperto Dato che tu non stai Proponendo un lavoro Come dire Non stai Proponendo Una serie Da quattro soldi Stai proponendo Una serie Che punta ad essere Tra le migliori Serie Della storia Anche due episodi E sono d'accordo con te Lei probabilmente Avrà proprio Lei avrà anche Lo storyboard Avrà tutto Quindi Saprà anche Le inquadrature da fare Con molta probabilità Quindi lei dovrà Semplicemente eseguire Quello Però anche in quel caso Non preferiresti dare Questo giocattolo Da un miliardo di dollari A una persona che Per quanto Ha il solo compito Di Eseguire Il lavoro Ha comunque Una certa esperienza Che ti permette Di star certo Di star sicuro Che il lavoro Sarà fatto bene Io Dal mio punto di vista Io ragiono in questo modo Non me ne frega nulla Che è donna Non me ne frega nulla Che Io Avrei scelto persone Con più esperienza Perché se io devo dare in mano Una Ferrari a qualcuno La do in mano a una persona A un pilota Che sa fare Sa guidare la macchina Che la sa guidare Per bene Perché ha esperienza Nel guidare la macchina E che la macchina Non me la fa andare A sbattere Perché Ti dico la verità Dal punto di vista Registico Nella Nella prima stagione Ci sono state delle sequenze Delle scene Che a me mi hanno lasciato Un attimo perplesso Alcune scene di combattimento A me mi hanno fatto cagare Al cesso La scena dove loro Combattevano Nel villaggetto A Mordor Quella sequenza A me mi ha fatto Riprezzo Non si capisce un cazzo È una scena fatta Veramente col culo Tu dici L'avranno scritta I sceneggiatori Bisognerebbe anche Vedere effettivamente Quanto Quanta mano libera Hanno i registi Per Che lavorano poi sul set Perché Se I sceneggiatori Possono scriverti Sicuramente le scene Chiave Le scene più importanti Però poi se vai Ad esempio Vai a girare Una scena di combattimento La scena di combattimento Fino a un certo punto Te la dirigi lo sceneggiatore Poi sta anche al regista Dirigerti la scena di combattimento E sappiamo Quanto una scena di combattimento È importante In una serie del genere Quindi Io non premetto Il fatto Poi chiudo Diamo la parola A Di Man Di Man Tu già Ti sei pronunciato Su questa cosa No Quindi ti do la parola Chiudo su questa cosa Io non Non premetto Non parto prevenuto Sul fatto che lei Possa fare un cattivo lavoro E sono d'accordissimo Con te Sul fatto che Alla fine Lei sarà probabilmente Un'esecutrice Però Con un miliardo Di dollari Stiamo parlando Dei registi Por caccia di quella misera E tu Sai Sai bene Quanto me Quanto dei registi Comunque sono importanti In un lavoro Che sia Una serie O un film Se tu Hai soldi Da spendere Spendili Per prendere Delle persone Che sei sicuro Ti faranno Un buon lavoro Ok Il miliardo È un blef È un blef Non è vero Non ce li hanno Questi soldi Cioè Ce li hanno Ma li hanno Stanziati Non li spendono Cioè Li devono spalmare Gran parte va Nella Nella Nell'advertisement È un grande blef È soltanto polvere Negli occhi Adesso Basta Fantasma Penso che Ha anche Delle cose Da aggiungere No 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 Infatti Cioè per quanto riguarda Un miliardo di dollari Lo so che è un po' In gran parte Fumo Negli occhi Però Io mi baso sempre Come facciamo tutti Sulle dichiarazioni Che loro fanno Che dobbiamo Noi possiamo giudicare Solo quelle Possiamo prendere in considerazione Solo quelle Però vai Dimet vai No no Allora Il miliardo È una farsa In realtà no Cioè È solo su questo Che loro hanno Basato il Il merchandise Di questa serie Cioè loro hanno Convinto tutti quanti Che avevano speso Una quantità enorme Di soldi Ed è Quello che si vedeva Nei titoli Di ogni Fottuto articolo Era questo Hanno speso Tanti soldi Hanno speso Tanti soldi Dato che hanno Speso tanti soldi Tutti sono partiti Il presupposto Che sarebbe stata bellissima Sono stati bravissimi Cioè Loro sono riusciti Veramente a vendere Il ghiaccio agli eschimesi Con questa serie La dimostrazione Però È il fatto che Si è morta immediatamente Che non c'era poi Niente Oltre il fumo Non c'era l'arrosto Questa scelta Delle tre Registe Donna Io non metto Un dubbio Magari saranno Bravissime Però una parte Di questa scelta È comunque Campagna di marketing Perché Questa scelta Farà parlare La gente Per un sacco Di motivi E loro E loro di certo Non si basano Sul discorso pubblico In Italia Ma su quello Negli Stati Uniti E negli Stati Uniti Questa cosa Ha generato dibattito E continuerà a generarlo Per forza Perché impazziscono Per queste cose Ci sono interi canali YouTube Statunitensi Che fanno le analisi Walk Di tutto quello Che esce E una delle principali accuse Alla serie Del Nero del Potere Era questa Quindi questa scelta Farà scatenare La gente Per settimane Se non un mese Fa parte del marketing Poi sono delle esecutrici Perché queste avranno Probabilmente Degli storyboard Già disegnati Ogni scena È quella Poi A quelle Che sono Più brave O che hanno dimostrato Non so bene come Nella serie Di essere già brave A fare un certo tipo di cose Daranno Specifici episodi Poi questa sana Henry È sbagliato Di finirlo un esordiente Questo è il primo lavoro L'ha fatto nel 2000 Ragazzi Non è un esordiente Il problema è che Non ha fatto molti film E non ha mai fatto una serie E questa è la cosa Che non Sì Sì Ok Sono di basso livello E non c'entrano niente Con una cosa del genere Cosa le daranno da fare Esattamente Io penso Alla scena del balletto Di Chele Brimboar Di Chele Brimboar E di Caladriel E O soprattutto Se sarà vero A quella cosa Che hanno detto I balli Di Tom Mombadil Perché se diventano Virali su TikTok Con quello Sono a posto Hanno venduto La seconda stagione Guarda che non è Guarda che non è Da sottovalutare Questa cosa Il successo Il successo Incredibile Di mercoledì Che ricordiamoci Non è stata scritta Da Tim Burton Quella roba Lui è un marchio Non ha fatto praticamente Niente in quella serie Se non metterci il nome E hanno deciso Come assemblare la serie Utilizzando Un algoritmo Che gli ha selezionato Gli argomenti Da metterci dentro Ok E non è la prima Perché adesso Stanno sbucando altre Fatte così Cioè Questi qui hanno detto Cazzo Dobbiamo farla così Ragazzi È così Che si fanno i soldi Spendendo anche Molti meno soldi In realtà Di quelli che Abbiamo investito noi Non è Io Come hai detto tu all'inizio Questi vogliono fare i soldi Non è una on-loose Non le frega un cazzo di Tolkien Doveva fregarle qualcosa Forse alla Tolkien Estate Ma ad Amazon Di sicuro Non frega niente Niente Loro vogliono solo Spremere una vacca Finché possono Perché i diritti Non gli resteranno Molto a lungo Dato che se le comprate Qualcun altro E per cui Devono fare Finché ce n'è Poi Le altre due Boh Cioè di esperienza Ne hanno Il problema è che Hanno già fatto episodi Di questa serie Ma È vero Se hanno fatto Le esecutrici Non avevano scelte E infatti La regia Di questa intera serie È piatta Perché è una regia Molto piatta E in alcuni tratti Brutta Però è piatta È tutta computer grafica È tutta computer grafica Ma non ci sono Non c'è Non c'è estro Nella fotografia E nella regia Di nessuna scena I passaggi Dai campi lunghi Che possono essere belli Per come sono realizzati Ai quelli stretti Gli interni O i vicoli di Numenor Per dio Fanno cagare Perché lì Non c'è maestria Nella regia Non è respirata Quindi Boh Non lo so È bene Hanno avuto libertà E hanno fatto male Oppure non l'avevano E quindi hanno fatto male Chi ha scritto Che ha fatto lo skin play Boh Non lo sappiamo Allora Leggo un po' di commenti Fukaeri dice Ma per me sono scelte Che si pagano in negativo L'esperienza conta e come Dovrebbero prendere esempio Da Last of Us Affidato dal regista di Chernobyl O House of Dragon A Sapochnik Sì L'esperienza conta e come Questo è Credo sia abbastanza Una delle cose Che appunto Mi ripeto Ci ripetono Quotidianamente In Accademia Che sto frequentando È Questo lavoro Si impara Con gli anni Con l'esperienza È una delle cose Che ci ripetono Loro Ci dicono Noi vi possiamo dare Delle direttive Anche in un accademia Di 2-3 anni Vi possiamo dare Delle direttive Dei consigli Vi possiamo spiegare Come stare sul set Cosa fare sul set Eccetera eccetera Però poi Le cose si imparano sul campo Come in ogni lavoro Ragazzi È un mestiere Ora E poi c'è Chi dice Non avevo perso il commento Qualcuno di voi ha detto Frank Ci sono stati dei registi Che hanno esordito Con grandi film Tipo James Cameron Assolutamente sì Ma Scusatemi un attimo Una cosa è un regista Che prova a sfondare Si fa il primo film Il suo debutto E ha successo È una cosa che succede Non è così frequente Sono pochi I registi che responano in questo Ma lui Semplicemente è un regista Che si è fatto il suo film Magari molti di questi registi Se lo sono pure auto Se le ha Anche autoproducono Comunque Tramite Soldi di amici Parenti Un po' come Grandi registi Hanno esordito in questo modo E comunque i loro film Hanno roscorso successo I loro esordi Ma qui Stiamo parlando Di un'azienda Che mette in mano Una Ferrari Una macchina Di soldi In cui stanno spendendo Fior di soldi A una persona Che dirigerà due episodi Ma che non ha Questa grande esperienza Quindi il mio dubbio È questo Se hai la possibilità Darla in mano Questa Ferrari A una persona Con più esperienza Darla a quella persona Con più esperienza Non darla a una persona Che Non è Appunto Appalesemente Dei buchi Di esperienza Perché come diceva Pure di Mad prima Non solo Non ha Non ha Lavorato Su alcun tipo Di serie tv Ma non ha lavorato In alcun modo Su questo genere Il che non è Da sottovalutare Ragazzi Perché il genere Comunque ti fa Va a Ti rende specializzato Ti specializza In quel genere Specifico Di cinematografico O seriale Se tu Hai lavorato Hai grande esperienza Ad esempio Nel genere horror È ovvio che Magari sarai Più esperto In quel settore E quindi Potrai offrire Una maggiore esperienza Una maggiore qualità Andando a girare Un film O una serie Di quel genere Lì Qui stiamo parlando Di una regista Che non ha mai fatto Una cosa del genere Ha girato tre film Di che non si conosce nessuno Che sicuramente Sarà fare Sicuramente Non sto mettendo in dubbio Che non sappia Fare la regista sul set Che non sappia Dirigere un film L'ha fatto Quindi non lo metto in dubbio Però Stiamo parlando Di una serie Che aspira Alla massima qualità Che aspira Al massimo Aspira Alla Alla perfezione Vorremmo Secondo Secondo la loro La loro idea E darla in mano A una regista Con poca esperienza Non mi sembra Una scelta La scelta più giusta Poi Si scoprirà Che Fred Stava parlando Con gli anelli del potere E farò Di più di meno Che Keleborn Ma magari Ragazzi Minchia Cioè Keleborn Tanta roba Se potessi fare Quel personaggio Io sceglierei Un altro personaggio In realtà Però Anche Keleborn Mi andrebbe bene E scelta discutibile Comunque Forse è una questione Di costi Ma Chiamare uno Come Peter Jackson E vabbè Visto che ha fatto Il tipo No vabbè Ragazzi Io non voglio Che chiamino Peter Jackson Quentin Taranti Ci mancherebbe Non sto dicendo No 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 Sto dicendo questo Sto dicendo Semplicemente Persone Quanto meno Mestiranti Ok Mestiranti Che hanno Conoscono il loro mestiere Che stanno Siamo sicuri Che loro riescano A dirigere il tutto Nel modo migliore possibile Va bene Non a caso Bayona ha fatto Scalpore Scalpore Ha Ha suscitato interesse Nella prima stagione Perché Bayona È uno di quei registi Che hanno Su cui tu puoi Scommettere Ecco qui La parola che stavo cercando È un registro Su cui tu puoi scommettere Ma Chi scommetterebbe Susana Hamri Che ha fatto Something new Quattro amiche E un paio di jeans Due E rimbalzi d'amore E dieci videoclip Chi scommetterebbe Su di lei Non lo so Allora Scommetteteci Cinquanta euro No Voi avreste il coraggio Di scommettere su di lei Io No Ma non per qualcosa Ma perché non ha esperienza Tutto qui Quello è il punto Poi nessuno qui chiede Peter Jackson Ci mancherebbe Ehm Va bene Ok ragazzi Direi che Il suo episodio Si intitolerà Quattro nani E una cotta di maglia Bellissimo Ma magari I suoi episodi Saranno i migliori Della stagione Ma io me lo auguro Ragazzi Lo torniamo sempre Allo stesso punto Io me lo auguro Ripetiamo Non dipenderà da lei Perché non li scrive lei Quindi C'è una speranza In realtà Vabbè Allora Se i suoi episodi Dovessero rivelarsi I migliori episodi Della stagione Io te lo do Il primo a dire Ok Quanto meno ha fatto Un buon lavoro Nel dirigere Quegli due episodi Poi Cosa avrà fatto Di concreto Non lo sapremo mai Perché non potremo Non saremo lì sul set A vedere lei Cosa farà Se lei Semplicemente Metterà in atto Quello che La Branstrom Mi ha detto Le ha detto Quello che Non lo sappiamo Quello che farà Poi concretamente Fatto sta che Amos ci dice Che dirigerà Due episodi È la regista Quindi qualcosa farà Io Permettetemi di aver paura Tutto qui Poi Oh Salutiamo Sana Amri Io non voglio Che lei prenda questa live Come un dissim No ma Figurati Ci mancherebbe Noi stiamo semplicemente Valutando Quello che Quello che stiamo leggendo E valutando Caso per caso E andando anche a Aggiustare Quelle che sono Le nostre aspettative Per la seconda stagione Tutto qui Ci mancherebbe Non abbiamo nulla Contro questa Contro questa Questa regista Ci mancherebbe Andiamo avanti Siamo agli ultimi Due tre articoli Lo so Abbiamo sembrato le due ore Non lo sapete Che va Ebbene Allora Su questo cerco di essere Un po' più Rapido Allora I nuovi Questa qua Questo articolo Tu bisogna leggerlo Perché ci sono altri Otto Otto ingressi nel cast Amazon ha annunciato Oggi l'ingresso nel cast Il signore degli anelli Nel potere due Gli altri otto Gli altri otto interpreti Dopo i sette attori Attrici annunciano La settimana scorsa Ehm Eccolo qui Allora Abbiamo Vabbè ve li leggo Ve li mostro Più che leggere Questi sono i volti Dei nuovi attori Ragazzi fate voi Il toto personaggio Stuart Brown Stuart Bowman Non lo conosco Non so se voi lo conosce Io non lo conosco Però ha un viso Un po' provo a Indominare Potrebbe No Un elfo No Potrebbe essere Un numeriano Un numeriano Io provo a zardare Un numeriano Per me Ci può stare Sì Gli occhi grigi Ci sta Azzurro grigi Ci può stare Un numeriano Magari mettono Un parruccone in testa E hanno fatto Il numeriano Eh 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 Non lo so Questo è un elfo È un elfo No No Questo Ehm È un Banyan Non lo so Cosa potrebbe essere Eh Oliver Elvis Wilson Non ne ho la più pallida idea Ragazzi Non voglio Non voglio azzardare Alcun tipo di previsione Sinceramente Non mi va E Vabbè Allora facciamo Ditemi anche Le vostre previsioni Però Rapidamente ragazzi Eh Eri Il primo Sì Kirdan Kirdan Oh Anche secondo me Kirdan Quindi è un elfo Secondo voi Eh Sì Allora Devono allinearlo A Kenebrimbor Dare Dare continuità Altrimenti quello Sembra troppo vecchio Rispetto agli altri Almeno Alzano l'età Media Degli attori Se è un elfo Famoso Non ci può anche stare Che seguire E E Ha i liamenti affilati Effettivamente Belli Precisi Quindi ci può stare Ha un viso piacevole Questo è poco ma sicuro Quindi Per questo ho pensato Magari ai numeri anni Perché Forse Ecco Forse Il fatto che è un Attore avanti con gli anni Però giustamente Voi mi fate notare Che Kenebrimbor È quello Quindi Si potrebbe benissimo Allineare Kenebrimbor Quindi Ci può stare Di me Io dico Un elfo In ciò Ci dicono Un numero No 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 Lui sarà Un elfo Di rifugio scuri Secondo me Sarà un elfo Di rifugio scuri Dato che faranno Vedere i rifugio scuri Dove stava Dove sta Kirdan Per me sarà un elfo Lì Di quella gente Là C'è chi dice Un esterling Magari Perché Che sarebbe Quello più coerente Anche io sono d'accordo Terra del rune Potrebbe Sì Comunque Adrin O qualcosa del genere E invece Si scoprirà Che è il figlio E il legittimo Di Galadriel Andiamo avanti Prossimo attore Kevin Eldon Cazzarola Io escluderei Un elfo Molto Uomo Nomenoreano No No Secondo me Un uomo Un uomo semplice Un uomo mediano Un uomo di attraverso Sì Si inventeranno Il restrego di Young Ma lo crederemo Per tutta la seconda stagione E poi Non lo so Sì Ma Sì 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 E Cavolo Adesso che l'ho visto Forse Kirdan Sarà lui Perché dopo il re Tortellino Gil Galadriel Lui ci starebbe bene Un agnolotto Ecco Un re agnolotto Kirdan Non lo so Forse Faranno vedere altri uomini Gente Gente in giro Per La terra di mezzo Sarà uno di loro Dai Ragazzi Anarion Ma te devi scherzare Che volevo Vole Per dici Anarion Ma veramente fate Dai Anarion è quello prima Non scherziamo Anarion Dai Per favore Per favore Vabbè comunque Vabbè io anche secondo me Non è un elfo Questo è poco ma sicuro Sarà un uomo Molto probabilmente Ma vediamo Questo per me è un elfo Wilkin Per me questo è un elfo Questo è proprio nano Nano? Sì Sì Con il trucco giusto Potrebbe essere Sì Sì C'ha la faccia La faccia La faccia scozzese Non so di dove è questo qua Però è E' britannico Quel tipo di britannico No? Duro in faccia Cazzuto Elfono Credo Wilkin E questo Il Keen È un cognome Scozzese O irlandese E' Il controllo Sì Di in mezzo Secondo te? No no Anche secondo me Lui è un nano Sì ce lo vedo Ce lo vedo come nano Obiettivamente E' di Oxford Quindi no niente Britannico Proprio inglese Doc Di Oxford Britannico Sì sì Ma comunque Cambia poco Morgoth Morgoth Vabbè anche voi Dite un nano Fluid Un nano acquatico Un nano fluido Sì ha dei lineamenti Molto Anche lui Molto Sottili Secondo me Ha un naso Sottile Cioè sottile Ha un naso E allora Ha dei lineamenti Non così duri Per questo io non lo so Non ce lo vedo come Però è vero Ma è un nano giovane Sarà lui Qualcosa di scuzzese Gallego La roba là Che potrebbe Fettare Per portarmi a pensare A un nano Vabbè Comunque Vedremo Vedremo E beh E beh Ci voleva Ci voleva Ci voleva Sì Che è le borne Bravo Bravissimo Ottimo 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 Guarda che è la serie Piccoli ascolti E piccoli ascolti Se fanno una roba del genere Lo so Veramente Ci sta Gli somiglia abbastanza In effetti Ho forse letto Un bomba Bill Che ne sai Ragazzi Seriamente Dai Dimmi Da serio Vabbè Vabbè Un elfa Dai È chiaro Che sei un elfa Per forza Ho anche Esterling Comunque Perché no No Sarebbe razzista Sarebbe razzista Troppo Troppo Esterling No No Quello è razzismo No Lei sarà un elfa Eh Baccador Ah eh Beh No allora Parlando seriamente Secondo me Comunque Potrebbe rappresentare Quella Quel melting pot Etniaco Degli Degli Harfoot Quindi Non è escluso Che possa essere Un Harfoot Sì ma La domanda è Chi cazzo è Selina Lou Chi Cacchio è Allora Andiamolo a vedere Ha fatto il remake di Hellraiser Ha preso parte Del remake Del remake di Hellraiser Del 2022 Ha fatto Winter Dream Boss Level Triple Threat E basta E qualche altra cosa Che qui Nessuno Da non sottovalutare Da non sottovalutare Niente Addirittura Per lei Ha partecipato Addirittura Dei campionati A quanto pare Di Arti marziali È un po' Un po' Un cliché Fra l'altro Vabbè però Niente Vabbè ragazzi Ce l'aspettavamo Comunque Era ovvio Che saremmo andati A parare Anche su Diciamo Su una completa Multietnicità Il mio La mia curiosità Ora è capire Dove effettivamente Andranno a inserire Quest'attrice Il viso Mi porta a pensare Un'elfa Molto Molto Sinceramente Perché ha un bel viso Che tipo di elfa sarà Steremo a vedere E si ripresenta poi Lo stesso discorso Che abbiamo fatto Con Rondir Insomma Però magari Lei si rivederà Essere tra i migliori personaggi Esattamente come Si è rivelato A Rondir Per quanto Noi su A Rondir Ancora non sappiamo Quasi nulla Quindi a Rondir Il giudizio È ancora sospeso Perché noi Su A Rondir Non sappiamo Ancora nulla O quasi Andiamo avanti Ovviamente C'è pure Gavi Sing C'era Quindi ci spostiamo Dalla Cina All'India Che Che ruolo potrebbe avere Lui Ecco Lui è un perfetto Esterling Ma io sono sicuro Che non lo faranno Non gli faranno fare L'Esterling Ne sono sicuro Lui sarebbe perfetto No Aspetta Frank Però Gli indiani Non sono Un'etnia protetta Dalla cultura Wok Come per gli italiani A noi vale ancora Prenderci per il culo E gli indiani anche Quindi non è detto Potrebbero anche farglielo fare No no Gli indiani Gli indiani Sono diventati Ultimamente anche loro Protetti Da un certo punto di vista Basti pensare Al cambio di doppiatore Di Apu Nei Simpson Nello scandalo Che c'è stato Ah è vero Eh chissà Può essere Può essere chiunque Chissà È vero Però in effetti Avrebbe senso Se lo fosse Quindi boh Chissà Magari faranno vedere Gente del sud Su droni Chissà Magari faranno vedere Quelli Ma allora Se poi pensate Alla faccia Di Isildur Perché potrebbe anche Non essere Narion Ah è vero È vero Perché non potrebbe Questo essere Il figlio Di Di Infatti stavano dicendo Molti in chat Stavano dicendo Anarium Lo dico in Iniziale Come si chiama Il re Elendil Figlio di Elendil Ti direi di no Però Guardando Isildur Potrebbe anche essere È più grande Quindi Avrebbe senso Per me Potrebbe essere Anarium Sì Viste così un conto Con il trucco È un'altra cosa Quindi boh Vedremo Vabbè Vabbè Allora Volevo rispondere Solo a Mario Ho visto l'articolo Però Se riesci a inviarmelo In italiano È meglio Perché tradurlo Adesso in inglese Dall'inglese All'italiano Mi risulta Se vuoi Io me lo sono letto Mentre stavate parlando Un pochettino L'ho letto E ho capito Di che cosa stavano parlando L'avevo trovato Da qualche parte In italiano Ma non riesco A recuperarlo E comunque Lo traduco Tramite Google No Lo traduco Tramite Google Velocemente Così vediamo un po' Vabbè Comunque Alla fine Gli diamo uno sguardo Allora Prossimo Minchia Che testone William Chubb Questo potrebbe essere Un'alternativa a Kirdan Perché no? Cavolo Lui però è tanto vecchio Dai Così tanto No Sembra la tua settantina Sì però Sembra molto più vecchio Di Kilgalad Non dovrebbe Esserlo Difficile da truccare Questo più giovane Potrebbe essere Un pelopiedi Se continueranno A farli vedere In chat di Caligola Effettivamente sì Allora Ma veramente Sì In chat Dicono Kirdan Un altro Ulfigo Tanto Elfo Giovani Elfo Giovanissima Stai Uno degli stregoni Raga ma siete fissati Questi stregoni blu Siete fissati Questi stregoni blu Forse un altro Numenoreano Ma Fingal è morto Come Tingle Ma dai No Fingal è morto Vabbè Però voi dire Che Frank cambia Giustamente E avete ragione Cesare e Augusto Vabbè dai Vabbè Lì qui Io opto Comunque un elfo qua Per me è un elfo Per me è un uomo E siccome non abbiamo avuto I Natskul finora E canonicamente dovrebbero esserci Dovrebbero arrivare a un certo punto E nella storia Devono apparire Almeno alcuni uomini E questo ce l'ha in realtà L'aspetto da Da stronzo Uno che Pensa soltanto Alla sua vita eterna Insomma Farsi il retire da Sauron È facile Uno convinto così E lo eritisce facile Va bene Andiamo avanti E questo secondo me Potrebbe essere Anarion Callum Lynch Lynch Tra l'altro Porta un bel cognome Non credo che siano parenti Purtroppo Purtroppo giovane Per essere Anarion No Magari col trucco Lo rendi un po' più vecchio Alla fine In Sindure è giovane Quindi Sì è vero Questo potrebbe Benissimo Anarion Tra l'altro Ma forse ha un viso Un po' troppo dolce Pensa a Ilaia Wood Pensa a Billy Boyd Quando erano giovani Erano perfetti Per fare Per fare un pelo piedi Sì Anche se questo Gli metti dieci anni In più di vita Sembrerà sempre giovane Come Ilaia Wood E quindi Ha quel tipo di faccia Da ragazzino Che non gli puoi cambiare Oh Smickle Gli fanno fare Smickle Da giovane Quando era ancora Un Umano Sì umano Quando era ancora Hobbit Lo fanno apparire qui Troppo lontani Troppo lontani E vabbè Allora hanno trasferito La forgia degli anelli Di 1600 anni Possono tranquillamente Anticipare L'apparizione Di Smickle Tanto ormai Si sta avvenendo tutto Nel giro di pochissimo tempo Quindi in realtà Potrebbero decidere Di farlo Il toy boy Di Galadriel Non lo mettere in dubbio Anche questo Alferno fa una riflessione Interessante Secondo me il fatto Che queste siano foto Foto in posa Stiamo pensando Solo a Duomini o Delfi Ma secondo me Se li vedremo In contesti più scherzosi Molti potrebbero essere Assolutamente Sì Ci mancherebbe Sono più che Foto in posa Sono foto da book Da book fotografico Questi sono Immagino anche le foto Che loro mandano Per i cast Queste cose qui Quindi certo Messi così in posa Sembrano tutti elfi O uomini di alto lignaggio Ma probabilmente Magari sto ragazzo Sarà un namo Che ne sai Non lo possiamo sapere Stiamo ipotizzando Stiamo giocando È un gioco Che stiamo facendo Non abbiamo certezze Di alcun tipo Anzi Se non sbaglio C'è una sola certezza All'inizio Quello dell'articolo Stava scritto Allora Ecco qua C'è chi ritiene Per esempio Che Wilkin Interpreterà Kelebor Wilkin È Lo sta È lui Che è quello Che è meno Quello che Non abbiamo De tutti Caro un nano E invece No ma C'è Anche mettergli La parruca C'è È l'articolo Lo dice L'articolo Non noi C'è una parte L'articolo Dice questo Ora Vai a via Capì Da dove L'anno Chi lo dice Chi sono ste voci Chi c'è Chi è che ritiene Chi ritiene Sì ma la differenza Di età Con Morphide Clark È evidente Cioè secondo me Non Non si Non si Mergiano Bene Questi due Magari Questa 24 anni Portati molto male Sarà una faccia Da bongola Eri No Forse Forse in realtà Qualcuno in chat L'aveva detto L'ultimo Che abbiamo visto Il ragazzino Beh in effetti Immaginate Dentro Una Un'armatura Che gli sta Troppo larga E Quindi Ricreare Quei Quei Parietti Lì Magari Questo Kereborn Per come L'hanno immaginato Di Charan Nel pace D'anima Loro Ah no Sono vivi Magari Magari È quel Kereborn Che loro Hanno Previsto Va bene Ragazzi La mia domanda Però che vi faccio È questa Ritorniamo Su questo articolo Fra poco Perché Adesso siamo Giunti All'atto Finale Vai La mia domanda È Secondo voi Tra questi Chi sarà Tom Bombadillo Ovviamente Lui E credo che sia Abbastanza Ovvio Tom Bombadillo Ragazzi E passiamo Alla Notizia Non finale Perché poi leggiamo Anche quello che hanno letto I sceneggiatori Stavate aspettando che Leggessimo la dichiarazione Di sceneggiatori Sulla canonicità La leggeremo Proprio alla fine Per chiudere Però prima Andiamo un po' A parlare di questo aspetto Recentemente Sono state Fatte girare Delle voci Anzi The One Ring Punto net Diabo Cesare Quel che è di Cesare Nel bene e nel male Ha fatto girare la voce Secondo il quale Nella serie Potrebbe comparire lui Leggiamoci St'articolo Quando il signor Nelly La compagnia Nelly Uscì al cinema Non furono pochi Gli appassionati di Tolkien A dichiararsi delusi Dell'assenza di un iconico Personaggio del film Tom Bombadillo Peter Jackson Fran Walsh La moglie Filippa Byens Lo avevano escluso Dalla sceneggiatura Perché le vicende Che lo riguardavano Avrebbero orientato troppo La parte iniziale Del film Che invece Doveva procedere Speditamente Allontrandola Dal film narrativo Principale Inoltre avrebbe Rappresentato Una parentesi Idilliaca Dai toni troppo diversi Da quelli Che assume Progressivamente Il primo atto Perfettamente D'accordo Con quello Con questa Giustificazione Che diedero All'epoca Jackson Moglie Eccetera Una sua canzone Viene però Cantata da Balbalbero Nell'edizione stessa De Due Torri Ora Dal set Del signor Nelly Del potere Arrivano voci Che potrebbero entusiasmare Ma proprio per no Proprio no Proprio i fan Orfani Tom Bombadillo The one ring Punto net Riporta indiscrezioni Secondo cui Il personaggio Sarebbe stato visto 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 Ora Già qua Che vuol dire Chi l'ha visto Chi l'ha visto Sul rete Chi l'ha visto Tom Bombadillo E cosa L'avete visto fare Un tizio conciato Come Viene descritto Allora Un tizio Con un cappello In testa Che balla Su Tom Bombadillo Allora dobbiamo Pensare che veramente Sarà lui Con un cappello In testa Che balla Addirittura qua c'è scritto È al cento per cento Tom Bombadillo E come Allora questo vuol dire che O Non l'hanno solo visto Ma sanno qualcosa in più O L'hanno veramente visto Ballare Con un cappello in testa E i gigli in mano Perché altrimenti Non c'è spiegazione Perché è la perfetta immagine Di quello che dovrebbe essere Tom Bombadillo Quindi se tu mi dici Al cento per cento lui Solamente per come Lo hai visto Vuol dire che tu l'hai visto Quello che hai visto È assolutamente Inattaccabile Cioè Per forza lui È questo che ci riportano Le nostre fonti Quali sono queste fonti? Qualcuno sul set Tom Bombadillo Fa parte del cast E verrà mostrato Nella seconda stagione Spiega Justin Uno dei reporter Del fan seed A quanto pare Le persone presenti sul set Ecco qua Stanno sentendo Dei dialoghi Di personaggi Che parlano di lui Riferendosi a Tom Ma scusate Ci avete detto Prima che l'avete visto E adesso ci dite Che avete sentito Hanno sentito Dei dialoghi Che si riferiscono a Tom Forse entrambe le cose Una o l'altra Vedete C'è comunque Ci sono C'è un po' di incoeranza Però Vabbè Andiamo avanti Justin non sarebbe L'unico ad aver sentito Queste voci Un'altra persona Vicino alla produzione Vicino alla produzione Cazzo vuol dire Vicino alla produzione Noi siamo vicini alla produzione Non lo so Afferma che questo personaggio È il nome in codice Di Errol Pram Errol Pram Il sito si spinge addirittura A ipotizzare Che la storyline In cui potrebbe apparire Tom Bombadillo Dovrebbe essere Quella che vede Lo straniero E noi Avventurarsi Verso Roma Nel sito Nei anelli Sappiamo che Tom Bombadillo Non lascia mai Le sue terre Nella vecchia foresta Dove vive assieme A Baccador La figlia del fiume Tuttavia nel capitolo Del consiglio di Elrond Gandalf lascia intuire Che in passato Potrebbe aver vissuto Altrove E qui ritorniamo Sempre alle solite merdate Che sono state utilizzate Da molti Per giustificare Le stronzate scritte Dai sceneggiatori Basta un minimo Di imprecisione Di semi-oscurità Di nebbia Che Tolkien Lascia I sceneggiatori Ci si ficcano Come i stronzi Scusatemi Veramente il termine E cercano Di inventarsi Qualsiasi cosa Dalla nebbiolina Che Tolkien Ha lasciato Da quegli strati Di nebbia Che Tolkien Ha lasciato Allora inventiamoci Qualsiasi stronzata Immaginabile Non sarebbe comunque Il primo cambiamento Che la produzione Degli anelli del potere Apporta alle caratteristiche Di un personaggio D'alcaniano Per farlo lineare All'esigenza della storia Grazie Batteste Per la tua sincerità Detto questo Sebbene le origini Nella natura di Tom Bomba Siano misteriose Sappiamo che È il più anziano Thorne era qui Prima del fiume Degli alberi Tom ricorda La prima goccia di pioggia La prima ghianda Quando gli alfi emigrarono A Ovest Tom era già qui Prima che i mari Qui citano Essenzialmente I testi Come spiega lui stesso A Frodo nel romanzo Ecco quindi Che nella seconda era In circolazione Quindi non è impossibile Che la produzione Della serie Abbia deciso Di inserire Nella seconda stagione Magari con un ruolo marginale Ma in grado di evocare Quello che ha nel romanzo Il problema Lì È che sarebbe Per quanto Tom Bomba Dile è vero È presente Nella terra di mezzo Dall'alba dei tempi Ma Non ha mai incontrato Gandalf Nella seconda era In questo caso Stando a quello Che dice l'articolo Ipotizzando che Questo personaggio Tom Bomba Al di là poi Di tutte le conseguenze Che potrebbe avere Inserire Tom Bomba Dal punto di vista Stilistico Estetico Come cacchio Lo rappresentano Come lo inseriscono Nella serie Che aspetto Gli danno Cosa gli fanno fare Ballare Lo fanno ballare Cioè che cacchio Gli fanno fare Vorrei capire Cosa gli fanno fare Ma al di là di questo Il fatto che possa incontrare Quello che è Tutti gli effetti Gandalf Perché ci sono Ancora alcune persone Che non ci credono Che quello sia Gandalf Ma è Gandalf Il fatto che possa incontrarlo Non ha il minimo senso Perché una cosa del genere Non è mai avvenuta Partendo proprio dal presupposto Che Gandalf Dovrebbe arrivare Nella terra di mezzo Nella terza era Non dovrebbe stare lì In quel momento Gli Hobbit Non ne parliamo proprio Quindi Che cosa A quanto pare Cosa possiamo aspettarci Stando a quello Che si legge Dall'articolo Che gli sceneggiatori Abbiano utilizzato Sempre il famoso Non detto di Tolkien Per inventarsi qualcosa E inserire questo personaggio Ora Ripeto ancora Ancora più Che la sua presenza A vera e propria A me preoccupa Come Verrà introdotto Questo personaggio Che aspetto Gli daranno Se persino Peter Allora Qui stiamo parlando Di un personaggio Che persino Peter Jackson È la moglie Un altro genio Come Peter Jackson Hanno evitato Di inserire Per non incappare In un errore madornale Persino loro Che avevano già Una grande esperienza All'epoca della trilogia Il regista Sia regista Che la moglie Come sceneggiatrice Avevano entrambi Grande esperienza Persino loro Hanno temuto Di fare una stronzata Inserendo questo personaggio Come possono Due sceneggiatori Che hanno saputo Che hanno dimostrato Di non Di non essere Di grande qualità Ok Mettiamola in questo modo E Una regista esordiente E Un'altra Con una buona Con una discreta esperienza Questa Branson Che a quanto pare Dovrebbe fare Ogni cosa Come pretendono Queste figure Di poter inserire Un personaggio del genere In maniera interessante Intrigante Affascinante Dando giustizia Al personaggio Nei libri In che modo Pretendono di farlo Io Non ne ho La più pallida idea E Al di là Poi Al di là Che venga Inserito O meno A me Questa è la notizia Che mi preoccupa Veramente Tanto È la notizia Che al momento Mi preoccupa di più Perché sarebbe Un azzardo E se Ragazzi Se è vera Questa notizia E falliscono Questo azzardo Per me la serie Si può Sotterrare Si può andare A sotterrare Direttamente Sapete Tra l'altro Quanto io Tenga Al personaggio E Quindi Allora Si giocano Tutto Ma Le probabilità Di vincita Di successo Sono molto Basse Perché L'ho appena detto Persino Peter Jackson Si è rifiutato Di inserirlo Stiamo parlando Di Samara Ini Come cacchio Si chiama Quella La regista Lì Stiamo parlando Di Peter Jackson Persino lui Si è rifiutato Di inserirlo Di inserire Il personaggio E Harry Che ne pensi Le probabilità Di successo Sono zero Perché è Completamente Sbagliato Non ha Né Peter Jackson Né la moglie Filippa Welch Hanno voluto Inserire Tom Bombady Ma non l'ha inserito Neanche Ralph Bakshi Cioè Se ne sono tenuti Tutti quanti Ben lontani Ben alla larga Bakshi È il cartone animato Perché non ha Non ha assolutamente Senso Che cosa deve fare Questo personaggio Lì Cosa deve dire Che contributo Deve portare Qual è la battuta Che gli fai dire Da dove lo estrapoli Qual è il significato L'utilità A incontrare Gandalf E dirgli Tom Bombadillo Bombadillo Non ha nessun ruolo Non può A bombazza Il personaggio Il personaggio Non ha Alcun ruolo Anche nel Signore degli Anelli Semplicemente Amazon Gli showrunner Amazon è un'entità Gli showrunner Credono Che Inserendo Tom Bombadillo Le persone sono contente Perché potremmo vedere Tom Bombadillo Basta soltanto La sua presenza Ah che bello Tom Bombadillo Allora è canonico E non hanno ben compreso In realtà La natura Dei personaggi Il loro Più Intimo Significato Con se stessi All'interno Della storia Non gliene frega niente Tom Bombadillo Ok Mettiamolo Non l'ha fatto Bakshi Non l'ha fatto Peter Jackson Noi lo facciamo Svidiamo tutti Attiriamo l'attenzione Attiriamo l'attenzione Perché è così E lì sarà la pietra tombale Ma è già una pietra tombale Non Io Guarda Mi auguro veramente Che non lo inseriscano Se non Tipo Gandalf E Nori Che camminano E da lontano Tra i rami Si vede uno Che saltella Se ne va E basta Tipo easter egg E basta Non deve né parlare Né farsi vedere in faccia Bisogna vedere un cappello La penna E manco in testa Che saltella Allora lì potrei accettarlo Ancora ancora Ma Un dialogo Con qualsivoglia personaggio Non deve Non può esserci Ora noi sappiamo Che Elrond Ha qualche informazione Riguardo Tom Bombadillo Probabilmente Lo avrà anche incontrato Perché lui è sicuro Di poterlo Di poterlo Avvicinare Infatti non lo vuole avvicinare Perché sa che Tom Bombadillo Non gli fregherebbe niente Lo perderebbe Eccetera Eccetera E quindi è probabile Che lui Ci abbia parlato Quindi potrebbe parlare Con Elrond Dargli qualche sapienza Un boost di sapienza Più che con Gandalf Chi lo sa Ma Anche lì Cioè È proprio Completamente fuori Ogni significato Ora loro utilizzano Questo Nickname Nomincodice Robert Paulson Volevo dire Elrond Errol Pram Sono andato a cercare A vedere un po' di cose In scozzese Il nome Errol Vuol dire Pulito Giusto per cercare Di capire Se questo nome in codice Ha un senso Significa ben fatto Pulito Mentre invece Pram è la carrozzella Il passeggio Quindi Uomo pulito Ben fatto Con la carrozzella Quindi anche volendo Non ha un significato Specifico Questo nome in codice Questo nickname Però Non mi piace Non mi piace l'idea È sbagliato Il fatto che lo abbiano annunciato Mi rattrista Cioè non l'hanno annunciato Però è emerso Mi rattrista molto Mi rattrista il fatto che Adar Abbia cambiato l'attore Con i peggiori propositi E Mentre All'inizio della prima Avevo Insomma E ho dato molte chance Alla seconda stagione Sarò Molto Ma molto 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 Più critico Cioè Sono finiti i tempi delle chance Mettere Tom Bombadil Non mi renderà felice Anzi Mi allontano Di Dimed Che ne pensi tu? Allora Io credo che loro L'abbiano messo come Esca per gli amanti Di Tolkien Che Si sono sentiti Orfani Come hanno detto loro Nei film Nel cartone animato E Finalmente Guardate Amazon ci vuole bene Una parte Di fanny Tolkien Naturalmente Loro hanno avuto Il coraggio Che gli altri Non hanno avuto E quindi lo mettono Poi È il personaggio Che potrebbe finalmente Sfondare dal punto di vista Dei meme E diventare virale Perché è pazzo E quindi puoi fargli fare Qualsiasi cosa Perché è matto Come un cavallo Cioè fuori come un balcone Lui chiaramente Quindi puoi fargli fare Quelle cose Che Faranno divertire la gente Che colpiranno Perché è matto Perché fa delle cose assurde E quindi Potrebbe diventare Quella cosa Che la gente ricorda Che nella prima stagione Non esiste Non sono riusciti a fare E quindi Vogliono mettercelo Anche per quello E in più Secondo me Non dobbiamo partire Dal presupposto Che Quel tizio Sia Gandalf E tutto il resto Perché loro potrebbero Anche decidere In corsa Che siccome Va in una certa direzione Quel tizio Non sarà più Gandalf Così come Secondo me A un certo punto Hanno deciso Che quello Sarebbe stato Saunon E quell'altro No E adesso Stanno riscrivendo Le cose Allora a un certo punto Diranno Vabbè La gente si lamenta Troppo Allora Quello Non è Gandalf E quindi Chi se ne frega Tanto Non c'è scritto In nessuna parte Che lui non ha incontrato Uno degli altri due E quell'altro E Tom Bombadil Si se si presenta E però Gli fanno fare Cose matte Mettranno lui Baccador Sarà bello Sarà buffo Sarà divertente E poi Ricordiamoci Collegandomi A quell'articolo Che tu vuoi leggere Successivamente Questi vogliono Calcare tantissimo Su quella Che secondo loro È la tematica Fondamentale Di Tolkien Cioè L'ambientalismo E siccome Tom Bombadil Con Il suo amore Per la foresta Signore Dell'acqua Delle piante E quant'altro È Una specie Di Greenpeace Vivente Loro diranno Usiamo questo personaggio Per portare Ancora di più Questa tematica E Le piante Coltive Quello E quell'altro E a loro piace tantissimo E vogliono usare Potrebbero Voler usare Questo personaggio Anche per questo Ma naturalmente Potrebbe anche essere Che tutte queste notizie Siano assolutamente False E che questo tizio Di nome Tom Sia un altro personaggio Che non c'entra Assolutamente niente E questi si sono Immaginati tutto Perché così Tengono alta L'attenzione Non è detto Che poi alla fine Ci sia veramente Io Non lo darei Come dato certo Questo è tutto Marketing Anche far scappare Delle notizie Dal set Può essere marketing Ma potrebbero Non essere vere O magari un modo Per tastare il terreno E vedere se la gente Ce lo vuole vedere Tom Bombadil nella serie Allora magari ce lo mettiamo Perché no In un episodio Magari in uno degli episodi finali Tanto quei due Se ne viaggiano in run Puoi farla venire In qualsiasi momento Per poi dire Che è una fanficcia Quindi Esatto Possiamo pure mettere Che ne so La Ferragni Che incontra Tom Bombadillo E si vanno a fare Un giro Nella storia di Gracco Ma sì Hai già fatto aprire Gli stari Quando non dovevano esserci Gli anelli Le fatti Manco ancora L'hanno forgiato L'unico anello Sono 1600 anni In ritardo Che gli frega Quelli Fanno quello che gli pare Quando gli pare Quindi potrebbe Esatto Possiamo fare quello che voglio Non abbiamo Non abbiamo nemmeno i diritti E vedi Quindi possiamo fare Quello che voglio È magico 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 Ragazzi Leggo giusto due commenti Poi andiamo Con l'ultima notizia E chiudiamo Sicuro come la morte Che i protobiti Di protogando Incontreranno Prototon Bombadillo Probabilmente lui svelerà L'identità di Meteor Mamma mia Vabbè Io non ci voglio pensava Se lo stanno inserendo Per far ridere Ci sono già riusciti La prima stagione Che sei senza Tom Bombadillo E vabbè Dopo Meteor Man in Carriola Ci sarà pure Tom Bombadillo In Carriola Come non ricordare La famosa scena in Carriola Quello è uno Ecco Non so perché Però quella scena Non è diventata virale Che peccato Se è una fanfiction Facciamo le cose come si deve Via 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 La Ferragni Pamela Anderson Dentro Dei tempi di oro E la facciamo diventare Una bella Hobbit Che dite ragazzi Eee Direi che ci sta Ci può stare Ormai Tutto è reale Tutto è possibile Se lo fai comparire Poi meme a Google Ma ragazzi Io ripeto Il Quello che farà No quello che farà Il fatto che venga inserito E' l'ultimo dei problemi E' il come Verrà inserito Che fa parte del Fatto che verrà inserito Però è quello che a me Io mi immagino Sto vedendo la serie Insieme a voi Che la vedremo Ovviamente anche la seconda stagione Su Twitch La sto guardando E sto parlando con voi Ragazzi All'improvviso Andando a cambiare Quella che è la natura del personaggio Ora Potrebbero renderlo più adatto A un contesto come la serie Ma allo stesso tempo Andrebbero a Snaturare Il personaggio Quindi Il problema Come hanno detto già Eri e Di Med Si sono infilati In un vicolo cieco Perché Se Lo inseriscono In modo fedele Al Al canone Diventa una pagliacciata Il che già lo è Però Diventa Diventa ulteriormente Una pagliacciata Raggiungiamo proprio il circo Va bene E E immagino già Che determinati colleghi Urleranno Al 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 Capolavoro E Al 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 Genio Al genio Io già lo immagino Quella è l'alternativa L'altra alternativa È di Rendere il personaggio Più Adatto A questa serie E Però Andando a snaturarlo Quindi tu lo cambi Il personaggio Un qualcosa Che avrebbe potuto fare Benissimo Peter Jackson Ma si è rifiutato Di farlo Ha preferito Non inserirlo proprio Se doveva scegliere Se doveva proprio Snaturarlo Ha preferito Non lo metto Non lo metto Se devo cambiare Il personaggio Questo personaggio È così Radicato È così caratteristico Che cambiarlo Sarebbe Per quanto mi riguarda Come una bestemmia Ancora più di tanti Altri personaggi Quindi Però altrettanto Come ho appena detto Se lo inseriscono Così com'è È la so cazzi Come fai? Se dovesse quindi Essere una notizia vera Che poi Ragazzi The One Ring È abbastanza Abbastanza Affidabile Come sito Come fonte Ok? Quindi non è che l'ha detto Che ne so Ciccio baciccio Pombadillo Di Del canale Della Che ne so Della pagina Facebook Feanoriani Incompresi No L'ha detto The One Ring Punto Net Quindi ci sarà Un minimo di veridicità In quello che è stato affermato Questa cosa mi preoccupa Perché Se effettivamente Dovesse essere così Sarà Una Sarà Sarà Si sono infilati In un vicolo Cerco Non vedo via D'uscita Non vedo via D'uscita Da questo vicolo Quello è il punto E non Non essere prevenuti Semplicemente Guardare le cose In faccia Poi Oh Magari si inventeranno Una genialata E sono il primo A rilare genio Eh Visto la prima stagione Ne dubito Comunque Andiamoci a guardare Rapidamente Un'altra Sfilza di attori Però ve li mostro Molto più velocemente Non facciamo il toto attore Perché questi qua Sono stati i primi attori Presentati dopo la fine Della prima stagione Che verranno aggiunti Nella seconda stagione Questi sono altri attori Quindi che si aggiungono Al cast E allora Questo è uno E ti dico Te le dico in sequenza Vai Elfo nano Nano Uomo Elfo nano Ok Ma niente Hobbit Ma scusa Perché vale Ha il viso Sto Ha la faccia storta Se questo è un elfo Vabbè Sciamo sta Questo è un bel viso Per me Questo qua sarebbe Un signore Haradrim perfetto Guardate lì Cioè Ha una Proprio Ha una No è un nano È tipo il fratello Della sposa di Durin Guardate lì È figo È fighissimo Stattore No per me Deve fare il re Deve fare il re di qualcosa È proprio Ha un portamento Guardate Già dal viso Vabbè che sono foto Messe in posa Però mi piace proprio Per me deve fare il re Degli Haradrim Però non lo sarà Ovviamente sarà Un elfo Proveniente dal nord Questo è poco ma sicuro Lui Lui ha la faccia Da Numenoreano Lui è Numenoreano Per me Per me Ci può stare Come Noreano Secondo me Questo l'abbiamo Già L'abbiamo già visto Lui è il nuovo Adar Questo è il mio Nuovo Amore Segreto Amalia Kenworthy Mamma mia Bellissima Stora ragazza Attrice Bella È un elfa Credo sia abbastanza Ovvio che sia Che sia un elfa Già sono innamorato Per me Lei sarà la migliore Attrice Perché è bionda Perché No no Sì Somiglia a Kelly Somiglia un po' a Kelly Lo so che somiglia a Kelly I miei gusti sono quelli No Perché è bionda Perché ha un viso Direi di 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 Con una certa estetica Cioè Ha una Ha una bellezza Non indifferente Voglio dire Quindi penso che sia Possa essere Un elfa Scorsi Ma Non potremmo Ce la vedi a fan Anaga Barba Ma Perché tu ce la vedi Vesa Cioè Orco donna Vabbè Orco donna Sarà un belogio Di sicuro No magari Baccador Mamma mia Allora Se mi fanno lei Come Baccador Io me ne frego niente Di Tom Bombaddy Ragazzi ve lo dico Ecco Clippate Se lei sarà Baccador Non mi importa più nulla Di Tom Bombaddy Mi va bene tutto Se lei è Baccador Ci sto Accetto la Accetto il contratto Ve lo dico ragazzi Non me la tirerò indietro Sta cosa Se lei è Baccador Mi va bene tutto Per me sarebbe perfetta Come Baccador Vadovi lì Per me è perfetta Come Baccador Oh poi la stiamo vedendo sempre Truccata Cioè in foto da set Per me è Baccador Va benissimo per me Lei Baccador Io lo spero Lo spero vivamente Andiamo avanti Lei è Palesemente Una 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 nuova Come si chiama Branwy Palesemente Una nuova Branwy Questa Quindi credo che sia Una donna Delle terre del sud Secondo me Beh c'è Potrebbe Sarebbe adatta Mi piacerebbe Tranquillamente Come è quello Nei panni Di una donna Delle terre del sud Vandrebbe benissimo E poi C'è Tom Bombaddy Ebbene sì Eh sì Eh sì Ragazzi Questo è Tom Bombaddy Ragazzi Questo è Tom Bombaddy Questo È Tom Ma Tom Bombaddy Appare più giovane Più Più Non so Più visco Più Tipo me Cioè Guanciotte rosa Ti stai proponendo Dai Proponiti a quelli di Amazon Il re di Nazgul La prima sessione è stata Fenomenale Amato dal primo minuto Fino all'ultimo Le scelte Il fatto che c'è stato il mister Ho adorato tantissimo Signori di Amazon Io se volete Firmo in qualsiasi momento Per fare Tom Bombaddy Ma anche per fare Baccador Se vi va Cioè pagatemi Io faccio quello che voglio No scusami E non sarai vai E non sarai l'unico Mi tengo la bionda Che abbiamo visto Pochi secondi fa Sinceramente Allora Per me lui potrebbe essere Un esteticamente Un po' acconciato Un buon Tom Bombaddy Magari lo gli dai Qualche anno in meno Con un po' di trucco Allora Ha un viso gioviale Che si potrebbe adattare A Tom Bombaddy Però lì dovremmo Sempre capire Tom Bombaddy Sarà come quello dei libri O magari Tom Bombaddy Sarà lei Bella domanda Non lo sappiamo Che cacchio ne sappiamo Non lo possiamo sapere Quindi se Tom Bombaddy Sarà quello dei libri Con tutte le conseguenze Che poi andremo A valutare Per me Lui è Tom Bombaddy Potrebbe essere Un Tom Bombaddy Poi Non lo so Staremo a vedere Ragazzi Ma sì No ma dai È chiaro Anche perché loro Secondo me sì Sì Si ispireranno Per Tom Bombaddy Al Radagast Dello Hobbit Che era un pazzo Drogato anche lui Divertente Buffo Insensato E secondo me Potrebbero fare una roba Del genere Sì Vabbè comunque Non escludete A priori Questa possibilità Comunque lui è Nicholas Woodson È un Un attore Veterano Di una certa età Inglese Di film Teatro E televisione Grande esperienza In televisione ha fatto Non conosco nulla Dico Ah Poirot L'ha fatto Rome È anche stato visto In alcuni film The Danish Girl Skyfall Oh Ha fatto un po' di Un po' di cosette Insomma L'ha fatto Ha fatto È laureato In All'Accademia Di Arte Drammatica In Inghilterra Quindi Non è Non è L'ultimo L'ultimo Arrivato E quindi potrebbe essere Anche da un punto di vista Di Tecnico Un buon Un buon attore Per un personaggio Che Se dovesse essere Fertemente così Potrebbe essere Uno dei personaggi Più Eh Attesi Amati Disprezzati Acclamati Eh Udiati Staremo a vedere Non lo so Non voglio Dirlo a priori Non voglio partire Col pregiudizio Ripeto Il fatto sta Che si sono infilati In un piccolo cieco L'ho detto Lo dirò Ancora e ancora E ancora Ogni volta che Ne Parleremo di Tombomba Delfino All'arrivo Della seconda stagione Poi Magari vedremo Il trailer E chi lo sa Magari ci dirà Vedremo già qualcosa Dal trailer Sono curioso Vedere il primo trailer Della seconda stagione A questo punto Vabbè ragazzi Io direi di andare All'ultima notizia Che è più che altro Per fare Una cosa Completa Chiudiamo il circolo Il circolo Il cerchio Con La dichiarazione La famosa ormai Dichiarazione Fatta Dagli sceneggiatori Allora Gli sceneggiatori Allora Questo è un articolo Preso da Asiatica Filmmediale Non conosco il sito Però Fatto sta che È una notizia Che aveva fatto Il giro del web Tra gli appassionati Soprattutto qualche Qualche mese fa In realtà Poco dopo la fine Della seconda Prima stagione Eh sì Metà Metà 14 ottobre 2022 Vabbè Queste erano Delle dichiarazioni Degli sceneggiatori In realtà Che Dissero Che la seconda stagione Di Links of Power Sarà più canonica Affermano Isshara Vado a leggervi Molto rapidamente Queste dichiarazioni In un'intervista Isshara Nel signore Anel Anel del potere Sono Payne E McKay Confermano Con maggiore attenzione Una maggiore attenzione Al canone di Thor Che nella seconda stagione Dello show Payne e McKay Usano Sound Come esempio Spiegando Come nella seconda stagione Di Links of Power Considera loro Di concentrarsi Sulla costruzione Del suo personaggio Scopri Cosa hanno detto Quindi leggiamo Payne ha detto La prima stagione Si apre con Chi è Galadria Una stronza Da dove viene Cosa ha sofferto Perché guidata Perché guidata Da cosa è guidata Al massimo Sappiamo da cosa è guidata Stiamo facendo la stessa cosa Con Sauron Nella seconda stagione Spero non con gli stessi risultati Riempiremo tutti i pezzi mancanti McKay ci dice Sauron ora può essere Solo Sauron Sauron ora può essere Solo Sauron Sì che non c'è più dubbio Che non c'è più misteri Cioè Quello è Sauron Non ci sono dubbi Da Vabbè Come Tony Soprano O Walter White È malvagio Ma complessamente malvagio Ci siamo sentiti Come se lo avessimo fatto Nella prima stagione Avrebbe oscurato Tutto il resto Ci siamo sentiti Come se lo avessimo fatto Nella prossima stagione Avrebbe oscurato il resto Quindi la prima stagione È come Batman Begins Il cavallino scuro Del film successivo Con Sauron che si muove All'aperto Siamo davvero Eccitati La seconda stagione È una storia canonica Potrebbero esserci Spettatori che dicono Questa è la storia Che speravamo Di ottenere Nella prima stagione Nella seconda stagione Glielo diamo A parte il fatto Che io Grazie No Non lo prendo Qualsiasi cosa Tu mi voglia dare Caro McKay Però Che cosa stai dicendo Se dici che La seconda stagione Sarà canonica Ci stai dicendo Che la prima Non è canonica Però io in giro Vedo ancora Persone Le chiamerò persone Che dicono Affermano Che la prima stagione È canonica Che la prima stagione È tolkeniana Ma se gli stessi Sceneggiatori Ci fanno intendere Che in realtà Non è canonica Ma non è che ci vuole Un genio A dirlo A capirlo Basta leggere I libri di Tolkien Però in giro Ci sono anche persone Che si spacciano Per competenti Di Tolkien Ci sono ancora Queste persone Che affermano Che la prima stagione È canonica E che è tolkeniana E sono persone Che si spacciano Per essere competenti Di Tolkien Il fatto sta Che ci dicono Questa è la storia Che speravamo Di ottenere La prima stagione E allora vi chiedo E che quindi Non l'avete Non l'avete Non l'avete Non l'avete Ma perché non me l'avete Messa nella prima stagione Se sapete Cosa si aspettano I fan Che poi Lo sta dicendo lui Eh Poi magari Andremo a vedere Se sarà più schifo Della prima Se tu sai Se voi due sapevate Cosa si aspettano I fan Di vedere Perché non l'avete Fatto già Nella prima stagione Allora che cosa Avete fatto Nella prima stagione Che cos'è Un esperimento sociale Per vedere Fin quando Fin quanto riesci A esacerbare Le persone Il pubblico A vedere Quanti abbonamenti Riesci a prendere E poi a perdere Contemporaneamente Su Amazon Che cosa avete cercato Di fare Con la prima stagione Qual era il vostro Intento Se state dicendo Che la seconda stagione Verrà apprezzata Invece della prima Rispetto alla prima Non lo so Ragazzi Andiamo a chiudere Con queste dichiarazioni Ci fate anche Se volete Una riflessione finale Sul tutto Vai Eric Allora si dice Chi è a metà Dell'opera E ovviamente C'è la controparte Chi mal comincia È solo in salita E quindi Anche per loro Stessa missione Cioè Lo dichiarano Apertamente Con buona pace Di chi Gridava Il miracolo Della stagione Migliore Del mondo Che questa Ma non si era mai vista Una cosa del genere I Golden Globe Lo hanno confermato Effettivamente Invece Loro lo ammettono Cioè Noi speravamo Di dare qualcosa Che proveremo A dare nella seconda stagione Perché loro scrivono Gliela diamo Ma loro in realtà Vogliono dire Proveremo a dargliela E quella di Tom Bomba Dile proprio evidente Un tentativo Goffo Di Di tornare ad un canone Utilizzando dei personaggi Che in realtà Non sono Presenti Nella storia Cioè Sì C'era Tom Bomba Era lì Ma non c'entra un cacchio E quindi Non hanno ottenuto Quello che speravano Di ottenere Cioè Questa è la storia Che speravamo Di ottenere Nella prima stagione Quindi avete cominciato male Avete cominciato male E quindi adesso È soltanto Un tentativo Di colmare Quello che è mancato Lo dicono Riempiremo Gli spazi Che sono mancati Ma poi quando dicono Che Chi è Galadriel Chi non è Da cosa è guidata Ma lo sappiamo tutti Chi è Galadriel Cioè Non è che era un personaggio Nuovo Sai È spuntata Cippa lippa E non la conosciamo Cerchiamo di scoprire Da cosa è mossa Da cosa è guidata Quali sono i suoi intenti Ma sappiamo Chi è Galadriel Cioè Ce lo devono dire Cioè Ma anche chi non ha letto Tolkien Sa chi è Galadriel Perché ha visto i film Altrimenti uno The Rings of Power Non lo vede Perché il pubblico A cui ci sono rivolti Sono tutti gli appassionati I Tolkien Film La letteratura E tutto quello Che ci sta intorno E anche youtuber Perché noi siamo una parte Anche di questa Lore Tolkieniana Che ne parliamo Cioè E anche grazie A noi In minima parte Non è che voglio Che siamo chissà che cosa Però Che continuiamo a parlarne Anche non Tolkieniani Che ne parlano Gli youtuber Sono infatti Un mezzo di diffusione Di notizie Ipe Incredibile Per questi showrunner E le controversie Che si creano I dibattiti E le scaramucce Che si creano Anche quelle Sono una parte Dell'obiettivo Di advertisement E quindi Cioè Ma che cosa Cosa dovete colmare Cioè È proprio un buco Non lo puoi colmare Nella seconda stagione Con cosa? Con Tom Bombadil? O con che cosa? Cioè Tony Soprano O Walter White È malvagio Ah ma davvero? Cioè Sauron è malvagio? Era questo il buco Da colmare? E quindi Tutti quei discorsi Sì scusa Tutti quei discorsi Sul bene Sul male Abbiamo ridimensionato Il discorso Chi l'aveva detto Non mi ricordo Che era Una dicotomia Ancora più difficile Da sciogliere E quindi Adesso è malvagio E quello che mi avevate Mi avevate detto prima Sulla dicotomia Del bene e del male Che fine fa? E perché proprio Manca una direzione Un progetto artistico Uno che abbia una visione E per questo Chiamano la regista Che ha fatto Quattro ragazze Un jeans Una maglietta Cioè Poi stiamo parlando Di Ora non voglio offendere nessuno Ma stiamo parlando Di musica Ok? Di grande musica Ascoltando Gigi D'Alessio Nooo No Povero Gigi No che offendi Frank Poi eh No Io non voglio offendere nessuno Siamo d'accordo Siamo d'accordo Che le domeniche d'agosto Quanta neve che cadrà Cioè C'è The Rings of Power Le domeniche d'agosto Quanta neve che cadrà Basta Non voglio Non voglio leggere nient'altro Perché sennò divento Ridondante E forse anche un po' Troppo severo Nei confronti di gente Che tutto sommato Alla fine Cercano di fare qualcosa Districandosi anche loro Tra i panetti Del Dell'ideologia Del walk Del political licor Io sono sicuro Che poi non gliene frega Un cacchio Del political licor Cioè loro probabilmente Vorrebbero fare le cose Come andrebbero fatte Però Hanno delle direttive Che vengono ancora più in alto E quindi devono fare queste cose Ma è come uno Che Che vuole fare Vuole scrivere la sua storia E gli dicono No in questo ligo Devi cambiare questo In questo secondo ligo Devi cambiare questo No il personaggio Invece che essere biondo Deve essere muro E allora dicono Vabbè Allora Mandiamo in bacca tutto Mettiamo Tom Bomb Dai Facciamola Come diceva Renne Ferretti A cazzo di cane Apri tutto Smarmella E fai The rings of power Allora Loro più che altro Vogliono renderlo Un personaggio Complesso complessamente Malvagio Che poi complessamente Esiste come parola Complessamente In modo complesso Malvagio In modo Ma vogliono renderlo Sono molta male Mi pare che non esiste come parola Forse sì Complessamente E Dimed Tu che ne pensi E chiudiamo con te stasera Vai Sì allora Io vedo durissimo La loro missione Di Rendere più canonica Una serie Dopo quello che hanno fatto accadere Nella prima stagione Perché Lo rende impossibile A mio parere Cioè sono già talmente Tanto fuori dal canone Che come fai E se poi Per renderla più canonica Ci mettono un personaggio Che non doveva essere lì Boh Non ho capito Le due cose Come stanno bene insieme Fate pace col cervello Non ha davvero senso Avevano davvero La possibilità Di far vedere Sauron Quando era ancora Annatar Fare delle cose Che non sembravano Malvagie Farlo perfino vedere Oscillare Tra dire Vabbè Lasciamo perdere Sono stato malvagio Adesso basta E invece Decidere di esserlo Definitivamente E l'hanno persa In realtà L'hanno persa Completamente Quell'occasione Adesso però Il paragone Con Walter White E Tony Soprano Ha un senso Perché lui Adesso che si è rivelato Come Sauron Dovrà fare Lo spacciatore di anelli Perché lui adesso Che tutti sanno Che Sauron Dovrà convincere Cioè dai compra quest'anello Ti va quest'anello A nove uomini A sette nani Li spaccia In un modo o nell'altro E dai Va lì Ti piace quest'anello Prendi quest'anello Dai Prendi uno Provalo Il primo è gratis Il primo è gratis Dilla anche ai tuoi amici Cioè in un modo o nell'altro Lo farà Ed è una cosa abbastanza triste Questa E io Non so davvero Che cosa pensavano di fare Ma gli ho riuscito molto male E secondo me Si stanno arrampicando Sugli specchi Nel tentativo di capire Come recuperare Quello che non sono riusciti A fare bene Nella prima Sarà davvero Durissima Davvero Ma stanno facendo Molte promesse Fra l'altro Tante promesse Come prima della prima stagione Avevano promesso Maria Monti Per poi dire Ma è fanficio Eh esatto È fanficio Non abbiamo inviti Adesso Dopo che faranno Dopo che falliranno Con Tom Bombadil Diranno Eh vabbè Però era una cosa Molto difficile Noi siamo stati così coraggiosi A provarci Poi il suscitto di merda Non è colpa nostra Era difficile Colpa di Tolkien Lo volevano i fan Ragazzi Lo volevano i fan È colpa vostra Sì A questo punto Dato che Prendiamo Prendiamo Seriamente Quello che hanno detto I due sceneggiatori Quando andremo a commentare Poi la seconda stagione Ragazzi Ricordatevi di questo momento Abbiamo letto La loro Dichiarazione In modo particolare Quella di questo McKay Che si è Imposto come il mio Sceneggiatore preferito La seconda stagione Ha una storia Canonica Ragazzi Fissatevi Questa frase Fissate questo momento Io utilizzerò Questo momento Quando sarà Utilizzerò questo momento All'apertura di ogni mia Recensione Di ogni episodio Utilizzerò Questo momento Questa frase Questo commento Del Di tale McKay A ogni All'inizio Di ogni mia Recensione La utilizzerò E ogni mia Recensione Sarà basata Sul fatto Che L'episodio Sarà canonico O meno E se qualcuno Verrà da me A dirmi Ma non ho mai Ditto Che è canonico Io Gli fanno inghiottire Qualsiasi cosa Io la fanno inghiottire No 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 Invece sì Con questa frase Penso che Non ci saranno dubbi Che la seconda stagione Sarà canonica Non dovremmo avere dubbi No? Ci hanno detto Molti Esatto Va bene Allora Ragazzi Direi che Possiamo andare Ai saluti Finali E siamo stati calmi Siamo rimasti calmi Abbiamo fatto quattro chiacchioli Ci siamo divertiti Quattro risate Insomma È stata una serata piacevole Come sempre E Allora Io Vi do prima Gli appuntamenti Poi passiamo ai saluti Gli appuntamenti prossimi Saranno Nei prossimi giorni Uscirà un video Forse due E poi domenica Lettura e commento Quindi questa settimana Come avrete intuito Non c'è la live del venerdì Perché La lezione di Elfigo L'abbiamo dovuta spostare Purtroppo di un'altra settimana Perché il professor Comastri Non c'è Questa settimana aveva un impegno Quindi La live di venerdì È spostata A venerdì prossimo E forse ci sarà un'altra live Martedì e venerdì prossimi Vedremo Quindi questa settimana Le live sono finite Ci saranno due video almeno Uno nei prossimi domani O dopo domani E un altro domenica Che è la lettura e commento Poi lunedì ci sarà ancora La lettura e commento Su Twitch Come sempre E martedì Spero di fare un'altra live E poi La lingua La lezione di Elfigo Venerdì prossimo E Su Twitch Ragazzi Lo so che molti di voi Mi state aspettando Ancora No no Le letture e commento Sempre lunedì Ragazzi Lunedì ore 21 Su Twitch Sempre la stessa programmazione Lo so che molti di voi Mi state aspettando Ancora su Twitch Non solo per le letture e commento Ma anche il pomeriggio Purtroppo ragazzi Io È un periodo in cui Sono super impegnato L'accademia Che sto frequentando Che ho iniziato a frequentare Praticamente A fine dicembre Inizio gennaio Mi prende Quattro giorni A settimana Per almeno Quattro ore A volte anche di più Però è una cosa Che ho deciso di fare Perché Va a integrare Sia il mio lavoro Sia per Aspirazioni che ho Future I miei sogni E desideri Che ho Quindi ho deciso Di farlo adesso Perché potevo farlo E purtroppo dovrò levare Qualche ora Al canale Però è una cosa Che volevo fare E comunque Ma anche che la terza stagione Ne facciamo io Tu E il fantasma Guarda Io Non ho problemi A propormi Alla canale Esce meglio Guarda Esce meglio Allora Ragazzi Per quanto riguarda No Niente Per su Twitch Ve l'ho detto Cercherò di tornare Quanto prima Appena Avrò tempo Magari vi vengono Viverò Magari qualche Qualche giornata Che sto a casa Ormai capita sempre meno Sto a casa Vi vengo a salutare Magari mentre pranzo Insomma Come facevamo in passato Come facevamo Fino a qualche settimana fa E Allora Io ringrazio Erinbor Grazie Per come sempre Per la tua presenza E ovviamente Passate sul canale di Erinbor Mi raccomando Uno dei principali Divulgatori Turcheniani E non solo Su YouTube Su YouTube Italia Quindi grazie a Erinbor Per essere passato In bocca al gruppo Per il tuo Short movie Lo voglio vedere Quanto prima Mi raccomando Facci sapere Tienici aggiornato Tienici aggiornati E Dimed Grazie anche a te Passate anche sul canale Il nostro Il fantasma Del web Bravissimo Divulgatore anche lui Non solo torqueniano Lui tratta tanti argomenti Narra storie Soprattutto quello Quello che lui fa Ma stream anche su Twitch Insomma ha una voce Molto 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 potente Ho sempre apprezzato Grazie Dimed non solo come persona Ma anche spero di conoscerlo Quanto prima Ma anche appunto Per i suoi contenuti E anche per Come lui li Li porta su YouTube Quindi mi raccomando Passate anche dal canale Di me Ragazzi io ringrazio Tutti voi E Spero di avervi con me Anche fra tre mesi Quando faremo Il nuovo aggiornamento Sulla serie Perché questo è un appuntamento Che magari potremo Portare avanti Insieme Andando a vedere Man mano Come si evolverà La situazione Ovviamente se dovessero Eserci altri aggiornamenti Ragazzi Che se fra tre mesi Non esce nessuna notizia La vedo difficile Perché Notizie ne escono Quasi ogni giorno Alla fine Qualcosa esce sempre Su sta serie Quindi Fra tre mesi Sicuramente avremo qualcosa di nuovo E la verremo a commentare Quindi ragazzi Con la serie Ci Ribecchiamo Fra tre mesi Quindi Praticamente Abrile Metà aprile Ci ribecchiamo con la serie E ne parleremo Ancora con nuovi aggiornamenti Detto questo Io vi mando un saluto Un abbraccio Ringrazio ancora Eri Ringrazio di Med Noi ci vediamo Lunedì prossimo in live E i video Usciranno Nei prossimi giorni Un paio di video Buonanotte a tutti Ciao Buonanotte Ciao Ragazzi Ho visto che mi avete fatto altre domande Adesso chiudiamo Alle domande Risponderò comunque Non vi preoccupate Nelle live su Twitch Insomma Qualche modo Per rispondere alle vostre domande Anche c'è qualcuno Che ha scritto qualche curiosità Domanda Magari qualche cosa Che vuole sapere Ragazzi Non vi preoccupate Vi risponderò Adesso chiudiamo Perché siamo arrivati alle tre ore e venti Porcaccia di guadagnia Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.